Hey, ciao! State per guardare la nona e ultima puntata della terza stagione del Breaking Italy Night, visto che, contrariamente a quanto detto, alla fine non ve ne sarà una decima. Ed è una finale di stagione sicuramente appropriata, perché ospito un giornalista e conduttore radiofonico che è in qualche modo la mia antitesi, Giuseppe Cruciani. Ora, ve lo dico, Cruciani è di base un provocatore. È evidentissimo che si diverta a creare scompiglio, lo vedrete dai primi minuti del night, e anzi, forse vi devo avvisare, dirà delle cose talvolta condivisibili, talvolta meno, ma lo farà sempre in maniera estremamente offensiva, perché poi, quando ha capito che non fossimo esattamente della stessa pasta e che quindi il giochino funzionasse, si è divertito molto a calcare la mano. Quindi, prendetelo per quello che è, un'emanazione del personaggio non troppo dissimile da quello che interpreta la zanzala, la sua trasmissione, perché ve lo dico, per quanto vi abbia provato a bucarlo, quel personaggio, e capire cosa ci sia dietro, è evidente che sia un'enorme esagerazione della sua personalità. È un po' uno show. Detto questo, è stata una puntata estremamente interessante. Per me è stato curioso confrontarmi con qualcuno con il quale non condivido dei valori di base, cosa che invece è spesso accaduto su questo palco, e so che lo stesso fatto di averlo invitato ha generato dei malumori. Lo accetto, lo rispetto, ma secondo me sbagliate, perché fuori da Breaking Italy c'è un'Italia di persone varie, che vivono, interagiscono, lavorano, e hanno desideri e ispirazioni diversissime dalle nostre, ed è giusto provare a venirci in contatto, anche se nulla di quello che dicono ci piace. Altrimenti facciamo setta, ma finiamo per parlarci addosso. A tal proposito, un ringraziamento speciale a Tridom e NordVPN, sponsor di questa stagione e di questa puntata, che mi conferiscono una fiducia estrema. Al solito la puntata è in versione integrale, non tagliamo nulla, non sappiamo cosa dire all'ospite, quindi la fiducia nei miei confronti, nella capacità di gestirlo, di confrontarmi con lui, è super apprezzata. Nord, peraltro, è un'azienda che fa della trasparenza sul trattamento e la protezione dei dati, un po' uno dei punti cardine, e quindi, con altrettanta trasparenza, continuo a consigliare i loro servizi, da fan numero uno. La loro VPN, che nasconde e protegge il traffico dati, la usiamo quotidianamente in redazione. E io, quando mi serve, la uso dal telefono, così, anche per raggiungere un livello di sicurezza alle cose che faccio, alle conversazioni, quando sono in giro, hanno un sacco di servizi convenienti, con costi che, anche visto l'aumento dei prezzi di ogni cosa, immagino se ne saremo accorti a questo punto, rimangono molto competitivi, perché hanno una formula di abbonamento biennale, che abbatte moltissimo i costi, e per due anni vi mette in una botta di ferro. E se passate tramite me in questo periodo, ulteriore sconto e un mese gratuito. Link in descrizione, e al solito c'è il soddisfatti e rimborsati. Soddisfatti o rimborsati, cioè, nel senso, o sodd... vabbè, l'avete capito. Peraltro, ultimissima cosa, poi vi lascio a me, cruciani, che battibecchiamo sul palco del teatro a carcano come dei pazzi, con la VPN, se già l'avete e doveste farvela, fatevi fuori. Perché, in qualche caso, i servizi, gli acquisti anche importanti, le prenotazioni di cose, sono sensibili a dove il sito ritiene voi siate. Una cosa si ritiene voi siate in Svizzera, una cosa si ritiene che siate in Slovenia o in Sud America. Nel senso, siete creativi. Per il resto, preparatevi. È un delirio di puntata. Io mi sono divertito moltissimo, e credo di aver imparato tanto, sia vivendo la puntata che guardandola. E, cruciani, tutto gli si può dire, ma non che non sia estremamente bravo. Quindi, mettetevi comodi, vi prometto che sarà interessante. Ed ora, per Breaking Italy Night, Alessandro Masala! Buonasera! Buonasera a tutte e buonasera a tutti! Grazie, grazie mille! Wow, grazie mille! Prezzo, grazie! Mi faccio l'applauso da solo, bravissimo! Molto bene, eccoci qui. Benvenuti alla nona puntata di questa stagione del Breaking Italy Night. Ci accorgiamo che stiamo arrivando verso la fine perché fa fresco, in questa stanza mi rendo conto. peggiorerà, cioè preparatevi perché io già lo so, diventerà insopportabile. Ma ci divertiamo un sacco stasera. So che questa puntata era attesa perché l'ospite è atteso. In barba chi dice che invito soltanto persone che la pensano in tutto e per tutto come me, ho invitato qualcuno che in genere la pensa in tutto e per tutto al contrario di me. In realtà no, in realtà secondo me stasera ci divertiamo perché a parte l'idea di cercare di scoprire, adesso già lo faccio incazzare perché non gli piace la parola personaggio, quindi il personaggio, la persona, il personaggio, tutti i miei video si chiamano così, tutti i titoli sono la persona e il personaggio, ma in realtà secondo me scopriremo che ci sono punti in comune con quello che faccio io e punti invece non sono in comune, però c'è un mix, c'è un mix e l'ho scoperto guardando ore e ore di interviste e di trasmissione che io seguo da tantissimi anni. Quindi vi chiedo un applauso per Giuseppe Cruciani. Fai bene il tuo pubblico quindi giustamente... È una presa per il culo eh, prendo per il culo il braccio... Lo tagliamo questo. Perché tu sei comunista un po'? No, no, no. Sei un po' di sinistra. Io sono capitalista. Ah, capitalista sì, ci mancherebbe altro se non fossi capitalista. Io sono super capitalista ma anche super progressista. Sei progressista? Che vuol dire progressista? Non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Che vuol dire progressista? Eh... Le battaglie del progressismo. Che sarebbero? I diritti... Ah, non mi sto facendo le domande io, scusate. No, 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 ma è interessante. Io sto immedesimando. Sono abituato che vengo da due ore di adrenalina e ti ho detto prima di entrare qua, se non mi stimoli con l'adrenalina dormo eh. Dormo e faccio addormentare loro, per cui mi raccomando. No, no, non comunista. Che vuol dire progressista? Cioè fare la domanda, sei comunista a questo punto è un po' vintage, eh? Da tre giorni è un po' vintage. Vintage è, però infatti tu hai detto subito progressista, ma anche progressista è vuoto di significato. Dici? Ma sì, vuoto di significato, vuol dire niente. Chi è progressista oggi? È vuoto di significato se lo dice tipo Giuseppe Conto, secondo me. Però se qualcuno si sente progressista, ha un significato. Perché ancora esistono progressisti, conservatori, sulla base di cosa? Eh, la voglia. Se ti dammi un criterio, da cosa distingui? Se uno vuole legalizzare le droghe, per esempio? Quello è progressista. Sì, allora io sono progressista. Tu secondo me sei un po' progressista e un po' conservatore. Un quacervo, cioè. Sì. Cioè un paraculo, forse. Qualcuno mi dice che sono paraculo perché ogni tanto sono meloniano, ho delle posizioni meloniano, ogni tanto ho delle posizioni oltre la Schlein. Cioè più radicali della Schlein. Quali sono le posizioni in cui sei più radicale della Schlein? La Schlein è a favore dell'Uter in affitto, ma non lo fa. Non fa un cazzo per farlo. Non c'è una proposta di legge, non c'è una cosa seria, non c'è una battaglia in Italia. Io sono a favore dell'Uter in affitto, ma in toto, al 100%. Ma cazzo. Ma la Schlein si facesse dare una mano da me. Cioè io farei una grande battaglia in Italia per comprare i bambini, per produrre i bambini. Non l'ho detto a caso, perché dicono che quelli che vogliono fare l'Uter in affitto vogliono comprare i bambini, ma io sono a favore. In che senso? Io sono a favore che i bambini, una coppia, se vuole un bambino, la vita è sempre meravigliosa. La nascita di un bambino è una cosa straordinaria. Perché due persone, che siano omosessuali, che siano trisessuali, che siano un coacervo, che siano dei canguri, che siano due uomini, due donne, un uomo e una donna, che sono nella maggior parte dei casi. E così sono d'accordo per il fatto che badano purtroppo in Canada e decidano io voglio un bambino da una che per nove mesi la pago. Sì, anch'io sono d'accordo, più o meno. Però vedi, Balbetti, tu già sei d'accordo? No, allora, aspetta. Sì, però solo con una che non vuole soldi, che è l'altra cazzata radicale. La cazzata è ricappata, l'altro giorno l'ho incontrato. Scusa, adesso devo sciogliere l'adrenalina. Io sono estremamente felice, vai. No, tu sei felice perché non vuoi fare un cazzo, non vuoi parlare. Io non voglio fare niente mai. Fa fare, cioè lui, no, lui prende i soldi, no, precisiamo, da questa cosa qua, lui prende i soldi, io zero, diciamo. Certo. Infatti dobbiamo iniziare dal libro, dice, però c'è la marchetta del libro, dice, allora vengo, però fino adesso zero. Vabbè, che sono passati cinque minuti. Sono fatti, infatti. Però posso dirti, allora, l'altro giorno ho incontrato Cappato, che forse alcuni di voi sanno chi è, spieghiamo chi è. Cappato, no, no. Esponente radicale, insomma, eccetera. Gli ho detto, scusa, ma perché pensi che le donne che fanno l'udono in alfitto lo debbano fare gratis per compassione, no? Sì. Fatta è perché esistono questi casi. Sì, ho capito, ma qualcosa viene pagato lo stesso. Cioè, per cui comunque l'ospedale viene pagato nove mesi, se uno lavora, tu gli paghi il lavoro. Cioè, gli paghi qualcosa. No, certo. Non esiste un caso di uno che rimane incinta per te per nove mesi, così perché sei bello, perché sei masala. Che poi bellezza è masala. Sì, bellezza è masala. Innanzitutto, cioè, non mettiamoci a fare gare, che vincerei a man bassa, ma... Con chi? Ah, in generale, dici? No, no, sul palco. Con me no. Che con te no. Un po' più... Leggermente più bello di te mi sento, dai. Sì? Sì, sì, sì. Leggermente. Leggermente, leggermente. Ho detto, leggermente. Ho detto, non è che ti do una pista, però. Insomma, io ho 56 anni. Se tu eri io a 56 anni come sto io, dovresti accendere un cielo. Ah, sì? Quanti anni hai, scusa? A quanti me ne dai? 42. No, ma cazzo. Come me ne dai 42? Cioè, meno di 40 ce ne hai? Eh, dai, ne ho 39. Vabbè, ho capito, non è che ho sbagliato. Ho mai detto, cazzo, come se ti avresti detto. Ma c'è, mi dicevi notte che... 39, ho detto 40, 42, più o meno, ce l'ho azzeccato. Cioè, io sono 56, chi sembra più vecchio? Io o lui, diciamo la verità. No, vabbè, cioè, no, è una... Eh, lui, dai. Lui. No, ma ci sei portato la clac. Oh, che... È una roba alla rete 4 questa, è una roba alla rete 4. Allora, in teoria noi iniziamo... Saviano non fa così, però, eh. Saviano mi ha dato molti meno anni. Saviano mi ha chiamato guaiò pensando che io fosse un ragazzo. Quando gli ho detto che avevamo più o meno alla stessa età, c'è rimasto... Cioè, nel senso che lui si sentiva... Molto più vecchio di me. Molto vecchio, beh, effettivamente. Quindi, se tu sei un otto, io cosa sono? Eh? Se tu sei un otto, io cosa sono? Un otto, io, tu sei un... Voto, dici? Sì. No, io non sono otto, non lo so, io mi sento più affascinante che bello. Però lo sono più di te, sono più affascinante di te. Sì, più affascinante di me. Sì, insomma, faccio più colpo. Cioè, se stiamo in un posto con dieci donne, nove scelgono me e una te. Ma te lo posso... Un applauso alle bugie, dai! No, ma che bugie? Io lo penso sul serio. Poi dipende chi c'ho... Cioè, questo te lo posso certificare. Ok. Cioè, tra dieci donne qui... Sì. Che scelgono? Nove scelgono me e una te. È una me. Vabbè, ma non è male una, comunque. No, no, no. Tu sei un monogamo, tendenzialmente serai monogamo, sicuramente. Eh... Sì. Perché? No, no, aspetta, sta diventando divertentissima questa cosa. Perché sono tendenzialmente monogamo? Ma sì, sei monogamo. I progressisti si dicono tutti monogami, in teoria, a parole. Allora, non è vero, essere bigami, in teoria, è molto progressista. No, ma che dici? Essere poliamorosi... Ma oggi la sinistra è la cosa più conservatrice che ci sia in Italia. Ma questa è una bugia. No, è la verità assoluta. Ti faccio un esempio molto chiaro. Sì. Circa, legittimamente, con grande soddisfazione, immagino, e poi affronteremo questo discorso, spero, a meno che, non so, non sia previsto, perché c'è l'agendina nera dove c'hai tutti i temi. No, certo, c'ho... O è un oggetto di scena e basta. No, 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 c'ho le cose, perché fa intellettuale avere... No, no, giusto, io non me le scorderei, per cui fai bene, ma tu sei più giovane, dunque te la ricordi meglio. Sì, sì. Le uniche proposte che ci sono della sinistra sono di punizione dei clienti. Cioè la sinistra fa solo proposte di donne che pensano di eliminare la prostituzione, cioè di sostanzialmente come dire, vabbè, il mare oggi non c'è più, diciamo, no? Cioè, come il sole vogliamo tutta l'estate, tutto l'anno. Ma anche la destra? No, la destra invece in teoria, se vuoi sempre in teoria, ma infatti su questo hai ragione, in teoria la vuole legalizzare, la vuole, vuole legalizzare le zoccole. Legalizzare i bordelli. Ma perché le zoccole? Ma perché la parola zoccola, anche qui, l'uso delle parole, no? Poi adesso sto accavallando gli argomenti perché tu non hai una tua... Prendi in mano la situazione, lo vedi? Non c'ha voglia. Non ha voglia. Allora... È vero o no? Non lo voglio. No, non è vero che non lo voglio, è che devi capire che per me è divertentissimo vedere questa cosa qua. Però sì, ok, prendiamo questo argomento qua. Quale? Quello della terminologia. Perché tu sei di quelli che sta diventando una Roma in cui ci accusiamo vicendevolmente da molti minuti, che non si può più dire niente. Sì, assolutamente. Che è una falsità gigante. No, 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 non è la falsità. Ma l'hai appena detto? Vabbè, ho detto qua, però lo posso dire. Cioè, lo posso dire qui. Dov'è che non lo puoi dire? Non lo puoi dire? Io lo posso dire perché c'è una specie di zona franca. E vabbè, quindi si può dire. Io lo posso dire, però è una rarità assoluta. Ma non è vero? Sì, assolutamente. È una rarità assoluta. Cioè, infatti, da un momento all'altro mi aspetto che qualcuno tiri giù la Claire e direi, vabbè, basta. Avete detto troppe cose. Oppure comunque basta. Ci vuole un po' più di politicamente corretto. Bisogna parlare meglio. Ma che sai cosa del politicamente corretto mi fa impazzire. Sì, lo so, lo so. So che i progressisti dicono che in realtà so che i progressisti… Si può dire tutto. Non si può dire niente. Non è vero. Non puoi dire frocio, per esempio. Ma lei ha appena detto. No. Sì, ma che c'entra? L'ho detto qua. Però, hai ragione, ti vengo dietro. Da un certo punto di vista uno lo può dire, infatti lo sto dicendo, ma qualcuno vorrebbe la polizia delle parole, la polizia politica delle parole e se ci fosse una legge che io ho avversato e che io, se fossi stato in Parlamento, avrei stappato champagne come hanno fatto quelli della destra, lo rivendico, rivendico, so che adesso molti non saranno d'accordo e sono contento perché gli applausi non mi piacciono, io avrei stappato champagne, avrei preso la scena della mortadella, ti ricordi una volta in Parlamento? Sì, che era una roba patetica, patetica, meravigliosa, una scena popolare, grandiosa, la mortadella, bellissima. Il Parlamento è lo specchio del paese, che cazzo vuoi che sia un cenacolo di pensatori il Parlamento? Ma certo è il Parlamento! Il Parlamento è la bestia che sta qui, l'animale che rutta, io, te e qualche intellettuale al limite, se il Parlamento fosse un posto di intellettuali sarebbe un orrore, sarebbe una cosa terribile, sarebbe un paese migliore! Ma è la cazzata che, no, ma questa è la minchiata di voi progressisti, perché pensate che il Parlamento, no, voi pensate che il Parlamento debba essere l'espressione del meglio che c'è in Italia, ma non è vero, sarebbe una follia se fosse così! Perché sarebbe una follia? Perché sì, perché i giornalisti in generale, anche io purtroppo faccio parte di questa categoria, i giornalisti, i cosiddetti intellettuali che spesso si autoproclamano intellettuali, molto a sinistra, poco a destra, però comunque molto a sinistra, dicono, eh beh, il Parlamento dovrebbe essere la creme del paese, ma non è vero, è una cazzata! È una cazzata nei fatti! Ma no, ma è una cazzata nei fatti, non è possibile una cosa del genere, scusa, ma se la gente vota, com'è possibile che votino tutti per che cazzo ne so, per Pico della Mirandola o per Galli della Loggia? È evidente che la gente vota e poi prendere i voti è una roba talmente bestiale che devi mettere le mani nella merda! Se non metti le mani nella merda, per esempio Draghi, a voi piace moltissimo Draghi, no? Allora, aspetta, fermati un attimo! Però Draghi non è uno che mette le mani nella merda, non piglia un voto se va alle elezioni! Ok, aspetta! Non è chiaro, no? Ma io, per carità! Allora, Draghi ci arriviamo tra un attimo, però torniamo a non si può più dire niente che abbiamo appena dimostrato... Eh, cosa succede? Non si può dire niente significa che quando fosse passata una legge che si chiama ZAN, dal nome di un signore, la famosa legge ZAN, dal nome di un signore che è un deputato del Partito Democratico, adesso molto fedele alla signora Schlein, anche era la parola frocio, utilizzata in termine soft, non brutto frocio! Ma non c'è soft! Sì, come no, assolutamente! Non è brutto frocio o frocio di merda, che sono due cose diverse! Frocio di merda è un insulto, poi uno può decidere di dire, vabbè, sei un imbecillo oppure andare in tribunale, con alterne fortune, perché non è mica detto che poi hai... Certo! Però comunque la parola frocio di per sé è un'espressione che viene utilizzata sempre, io ogni tanto la uso... Ma è comunque offensiva! Ma non è vero! Ma perché stiamo inventando che non lo... Ma l'offesa è in chi la ritiene offensiva, non è sempre così! Va bene, ecco... Ma senti, il punto è questo... Ma scusa, se uno passa e io gli grido coglione... Cioè, capito, che c'entra uno passa? Non è che lo dico a uno, a frocio è diversa la cosa! Cioè, non è che ti sto dicendo, se uno dice, quello è omosessuale, beh, tu dunque sei frocio, non mi pare offensivo, no? Dice, no, non lo puoi dire, vabbè, se non vuoi che non te lo dico, non te lo dico! Però di per sé la parola frocio non è una parola offensiva, l'abbiamo trasformata noi perché abbiamo la tendenza a dire, beh, siccome c'è qualcuno che può essere sensibile, allora quella parola la bolliamo per sempre. Se invece si ripetesse continuamente frocio, frocio, questo era un vecchio sketch di... di... come si chiama? Di Larry Bruce, eccetera. Frocio, 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 ripetuto continuamente, diventerebbe una parola inoffensiva che non fa male a nessuno. L'offensività di una parola è solo nella nostra testa, nella realtà, ci sono moltissime persone che in privato, omosessuali, che si chiamano frocio, no? La frocia, la frocia... Certo, ma in quel caso non è offensivo. Sì, allora perché... Quindi stiamo dicendo che la maggior parte delle persone che utilizza parole come frocio lo fa in buona fede, diciamo. Secondo me la maggior parte, sì. Non accade tipo nelle bettole, le bar... Capito, è ridicola la polizia delle parole, c'è il controllo delle parole ormai così sofisticato, così invasivo, eccetera. È una roba senza senso. Che non esiste, però. Come noi. Perché nessuno esiste. Ma chi è che viene a prendere? A parte che la legge Zan non è che ti diceva che non la potevi dire a quella roba. No, è vero. La legge Zan però poteva portarti in teoria in tribunale perché qualche associazione dice, no, però questa roba qui è istiga all'odio, no? Istiga all'odio. C'era un'ambiguità di questo. Io sono contento di averla combattuta a fondo perché non abbiamo bisogno di una legge in più e se uno offende pesantemente una persona, cosa che mi ripugna in quanto omosessuale, e allora questa persona giustamente ci sono già tutte le leggi per cui uno... Io non mi rivolgere mai a un tribunale. Cioè io una persona che odia i gay lo ritengo semplicemente un cretino, lo ritengo un imbecillo, lo ritengo una persona di cui non me ne frega un cazzo. Lo ospito alla radio per farglielo dire certamente perché mi... Quindi tu aboliti... Per rappresentare la realtà. Di questo ne parliamo tra un attimo, ma... La realtà. Quindi tu toglieresti quel tipo... È un'espressione... È un'espressione frecceriana. Sì. È un'espressione frecceriana che è la realtà. Quindi fammi capire una cosa. Siccome la legge Zan in realtà interveniva su una legislazione esistente e quindi ampliava delle tutele che già esistono su altre categorie, tu toglieresti quelle tutele anche agli altre categorie, tipo persone razza, ad esempio. Quindi si può dire qualsiasi cosa che non dire. Guarda, io sono tendenzialmente per quello che succede negli Stati Uniti. Tempo fa un ebreo, negli anni 70 se non sbaglio, forse qualcosa prima, negli anni 70 un ebreo abbastanza conosciuto, adesso non mi ricordo il nome perché sono ormai so vecchio e mi scordo le cose, fece una grande battaglia per la libertà di parola dei nazisti da ebreo. Questo perché? Perché diceva, in fin dei conti, noi dobbiamo combattere, non dobbiamo reprimere la possibilità che questi possano parlare. Questi dicono delle cose orribili, il razzismo è terribile, il nazismo è ovviamente una cosa ripugnante, ma chi decide chi deve parlare e chi no? Questi devono parlare e noi dobbiamo vincere la battaglia del confronto, non quella di reprimere la libertà di parola. E infatti in America c'è una legislazione che, come sai, permette al Ku Klux Klan di esistere, cosa che non sarebbe impossibile in Italia vedere delle persone incappucciate. Un conduttore radiofonico molto conosciuto come Aura Stern negli Stati Uniti, tempo fa, quando era Aura Stern e non adesso la parodia di quello che era prima, invitava fisso una volta a settimana il capo del Ku Klux Klan in radio. Io se potessi lo farei. Il capo del Ku Klux Klan una volta a settimana in radio sarebbe straordinario. Ok. Sarebbe una cosa bellissima. Infatti è pazzesco che in Italia non possano esistere cose come Casa Pound, non possano esistere Forza Nuova. Non esistono, infatti. Infatti esistono. Non è un problema, nel senso che stanno là. No, non sono come il Ku Klux Klan perché poi... No, è ok che non sono come il Ku Klux Klan. Non è la stessa cosa perché non ti fa regolare anche tu da questi... No, no, dico però esistono formazioni di estrema destra che fanno cose... Ma sì, ma infatti secondo me la libertà da questo punto di vista, queste cose qui vengono sterilizzate. Se questa gente che parla e prende lo 0,0... E allora non è vero che non si può più dire niente, si può dire tutto. No, solo che poi ti prendi la responsabilità delle cose che hai detto. Allora, il vero danno sono... non sono dannose, adesso non confondete le cose, sono le associazioni. A me fanno impazzire le associazioni. In generale. Le associazioni LGBTQ, eccetera, eccetera... Di protezione dell'omosessualità, che per carità avevano avuto una grande funzione, sono diventate delle cose di un conservatorismo pazzesco. Cioè ti controllano qualsiasi cosa tu dica, se critichi il gay pride ti dicono che sei omofobo, se critichi, che ne so, il luter in affitto, che ne so, un'altra cosa, ti dicono... Se hai combattuto come io, ho combattuto la legge Zana, e dici, allora, sei omofobo? No, semplicemente non voglio che mi rompi il cazzo se dico frocio. Punto e basta. E vabbè, ma è ovvio che... O se utilizzo un'espressione un po' eccessiva nei confronti dell'omosessualità. Ma è normale. No, non è normale. È normale. Non è normale. Ma per dirti, io sono vicino alla comunità LGBT e ho delle perplessità... Ma che vuol dire la comunità LGBT? Dici, sono vicino alla comunità. La comunità non è che è un'entità sovrastruttura. No, no, infatti all'interno ci sono tante... Ma che vuol dire? A me già fa impazzire questa cosa. Ci sono le singole persone, non esistono... La Thatcher, diceva, Santa Donna. Mamma mia! La Thatcher, che era un gigante assoluto rispetto ai nani di adesso, sia in Inghilterra che in Italia. Eh, vabbè, lo si dice per tanti politici. La Thatcher era un gigante, diciamoci la verità. E' una che fece la battaglia contro i minatori, contro i minatori e se ne fotteva del consenso dei minatori. Era lì e chiudeva le fabbriche perché non funzionavano più. Comunque, vabbè, la Thatcher diceva che in realtà... Lo diceva addirittura della famiglia, lei. No, anzi, della famiglia no. Diceva che la comunità non esiste. Cioè, la cosa delle liste civiche, queste robe qua, non esistono le persone. Sì, ma le persone si uniscono in gruppi. Per me non è che esiste la comunità LGBT. Io parlo con uno, non è che parlo con il capo di una comunità LGBT, perché chi cazzo rappresentano questi qua? Ma che discorso è? Ognuno rappresenta gli archi gay, rappresenta i suoi iscritti al limite, forse nemmeno quelli. Io parlo con una persona singola. Sì, ma persone simili. Se va con gli uomini, con le donne, non me ne frega un cazzo a me delle persone. Qui ci saranno un sacco di omosessuali e io me ne fotto che siano omosessuali. Giusto, giusto. Per cui a me già un'associazione fatta di omosessuali, per me già si è un'autoghettizzazione. No. Ma perché mi devo riconoscere con uno, semplicemente perché scopiamo tutti quanti insieme. No, ma la tua posizione va benissimo, va benissimo. E' come se io facessi l'associazione degli eterosessuali che scopano solamente le bionde. Ma non esista. No, ma non è vero. Dai, per favore, sono gruppi di persone che condividono delle problematiche comuni e quindi si mettono assieme, no? Sì, ma... È normale, è come un sindacato, siamo tutti dipendenti della Fiat. Ma aveva senso negli anni in cui i gay oggettivamente erano... Io sono stato una volta pure invitato da Luxuria al Gay Pride a Roma sul palco a parlare di omosessualità. Io sono a favore di tutto. Eh, mi ricordo che si è andato. Ma io, per esempio, sono a favore, sicuramente tu non lo sei, del matrimonio. Cioè, come se... Secondo me nella Costituzione ci dovrebbe essere una cosa... Sarebbe bastato cambiare la cosa. Tutto quello che è valido per l'uomo e per la donna vale anche per l'uomo con l'uomo e per la donna con la donna. Punto e basta. Finito. Cioè, certo, non è che si può pensare che esistono le famiglie queer, come dice qualcuno. Chi è che l'ha detto? Vediamo un po' se indovinate. Le famiglie queer, allargate. Non esistono le famiglie allargate. Le famiglie queer sono le famiglie uomo-uomo o donna-donna? Non sono quelle allargate? No. Qualcuno sostiene che le famiglie possono essere anche a tre, a quattro, a cinque. Cioè, la famiglia è fatta da due persone più, eccetera, eccetera, i figli. Nessuno sta cercando di rendere… No, ma infatti nessuno, eccetera. Però, per me, dunque, basta la costituzione, modificare un articolo, per me deve essere uguale. Uomo-uomo, donna-donna. Ma infatti, la tua posizione a livello, diciamo… Però non mi devono rompere i coglioni. Sì, io sono a favore di queste cose, però se io uso un linguaggio che mi va di usare, se voglio essere esplicito nelle cose, se voglio dire, oh, ma come va la tua frociaggine? Cioè, come va? Lo prendi in culo? Quante volte lo fai? Cioè, non mi devono rompere il cazzo. Ti piace prenderlo in culo? Allora, sì, ma non è una cosa, lo posso dire, anche di un etero, cioè di una donna. No, ma per carità, è sempre il contesto nel quale accadono queste cose. È ovvio. Già vai a vedere il contesto, già tiri fuori una problematica, capito? No, il contesto è tutto, nel senso, dipende da dove le cose le fai. Se questa roba tu la stai dicendo alla tua partner a letto, è diverso… Ma anche il contesto pubblico… Quindi tu vedi a Mattarella e gli dici questa cosa qua. Ma che c'entra Mattarella? Ma c'è contesto e contesto. Però la libertà di parola non può essere solamente una parvenza. Che è? Che è il mirto? No, io ho un mese e mezzo che non bevo alcol, adesso mi deve costringere al mirto. No, non bevo il mirto. Non lo bevi? Passaggi. Posso appoggiare le labbra sul mirto, dai. È una marchetta pure questa? No. Pensavo che fosse una marchetta con qualche mirto sardo, no? No, no, no. Uno sponsor sardo. No, mi rende affascinante a bere il mirto. È un elemento di scena. No, no, sì. Vabbè. I podcaster. I podcaster. Ma perché quella singola… Ti piace sto podcast del podcast, insomma, vuoi in realtà un podcast… Ti piace sto podcast del breaking it? Vedi, io so fare più pubblicità di quanto te ne faccia tu da solo. Sì, sì, no, ma… A me pure piace, ho visto qualche puntata per prepararmi, sì, è un po' lungo, ma insomma. Io sono abituato che sei alla velocità. Alla velocità. Alla velocità. Quindi a Mattarella tu vai… Ma no, ma no, ma no, ma no, ma ragazzi… È sempre il contesto la questione. Ma certo che è il contesto, ma è chiaro che qualche volta noi diamo le patenti di omofobo a qualcosa che non è… Poi il termine omofobia, se voi andate a vedere bene, è un termine medico. È un termine medico. Che è stato trasformato. Stasera David mi diceva alla radio, quello è omofobo, uno interveniva dicendo che i gay non sono normali, no? Ora io dico, è chiaro che io non lo penso così, ma se uno dice che i gay non sono normali, può finire il processo, secondo te? Dicendo che i gay sono… Ma nemmeno se dice che i gay sono malati, ma chi se ne fotte? Perché dobbiamo trasformare tutto in processo, tutto in causa? Cosa tempo fa? L'avvocato Tormina venne alla radio da me tantissimi anni fa, poi smise di parlare… È stato uno dei momenti… Siamo al top, come dice qualcuno. È stato uno dei momenti più belli della storia della zanzare. In realtà come si scoprì, diciamo, l'avversione, chiamiamola così, di Tormina, dell'avvocato Tormina per l'omosessualità? La si scoprì perché lui andava in queste trasmissioni semi sconosciute, o comunque che aveva un sacco di pubblico, in realtà a Tele Lombardia, e faceva degli scontri pazzeschi con transessuali, eccetera, dicendone di tutti i colori, lei è contro natura, qualsiasi cosa. Allora noi lo chiamammo alla radio e iniziamo una serie di trasmissioni in cui lui ne disse di ogni… Ok. Tra cui una cosa in cui diceva, ad un certo punto, stanco dall'ennesima polemica, gli disse «Eh, avvocato, ma lei se ci fosse un gay, non mi ricordo se dissi gay, un omosessuale, ma lo assumerebbe nel suo studio?» Di avvocato gli dice «Ma che sei matto? Ma come fa a controllare però? No, ma si vede subito quella là, si vede subito, la porcheria si vede subito». Ok. Un'associazione gay gli ha fatto causa e ha vinto per una cosa che ha detto, perché secondo loro era discriminante dirlo. Ora io dico «Puoi fare causa uno che dice che non assumerebbe un gay?» Ma è evidente che è una cosa detta, cioè che non lo puoi… nei fatti non c'è discriminazione. Io l'ho anche difeso, cioè in questa cosa. Nei fatti non c'è discriminazione? Ma no, ma non c'è discriminazione. Uno che dice «I non l'assumerei, ma come fai a saperlo?» Se poi veramente succede qualche cosa, allora è giusto che ci sia la punizione, no? Lui alla fine pagò 10.000 euro. Per cosa è stato condannato? Un'ammenda di 10.000 euro. No, qual è il reato che ha compiuto? Ma non mi ricordo qual era, sì, una cosa di violazione di norme, non mi ricordo esattamente. Comunque credo la legge Mancino forse, è una cosa del genere. Non mi ricordo se la legge Mancino oppure proprio discriminazione. Penso di sia. Arrivò addirittura al Tribunale Europeo, lui ha fatto tutti i ricorsi, alla fine ha perso, ha dovuto pagare 10.000 euro a questa associazione. Però già un'associazione che per conto di X omosessuali fa una causa, secondo me già siamo al limite della follia. Comunque stiamo annoiando il pubblico. Non credo, mi sta annoiando? No, io quando sento troppo silenzio ogni tanto mi agito. Ti agiti, ok. Perché io sono abituato alla velocità, capito? Quelle cose per cui ho bisogno di scossa adrenalinica e di continuo. Di continuo, ok. Sono un po' dipendente da questo punto di vista. Ok. Infatti la cosa che bisogna gestire è la noia. La gestione della noia ti porta a fare delle robe terribili qualche volta. Tu quando fai la radio ti preoccupi di continuo di stare annoiando il pubblico? Sì, ti continuo. Ok. Mi incazzo quando c'è un ascoltatore che non funziona. Ma vabbè, perché quello lì è un po' parte della... Io sto dando per scontato che tutti sapete cos'è la zanzala, immagino che se siete qua lo conosciate. No. Un no. Si attacca al cazzo. Non è che possiamo fare un ripasso per una persona, ci perdonerà. È una trasmissione radiofonica che va in onda, adesso facciamo... Vai, fai la tua macchetta. Vai in onda dal 2006, condotta dal sottoscritto che ha avuto diversi momenti e ha avuto una trasformazione negli anni, grazie soprattutto all'ingresso nel 2011, di un conduttore che si chiama David Parenzo, il quale prima... Tigre, tigre. Soprannominato tigre da un ascoltatore, anzi forse si autodefinì lui tigre perché il suo coach, quando lui mette un po' di rotolini va in palestra e si affida a un coach che lo ha chiamato una volta tigre. Confessò questa cosa in radio e da quel momento in poi molti lo chiamano tigre. Lo chiamano tigre. Con suo scorno, con sua insoddisfazione perché lui vorrebbe semplicemente essere chiamato addirittura dottor Parenzo, anche se non lo chiamano. Invece lo chiamano tigre, ma non capisce che la radio è fatta di queste cose qui, è fatta di sberleffi. La tua trasmissione è fatta di queste cose qua. Lui nasce come giornalista che gli piace sempre, ma che faceva delle battaglie tra quelle che facciamo noi adesso, tra ultracattolici e transessuali, che è un classico della zanzara, mettere insieme un ultracattolico feroce che dice appunto che l'aborto deve essere eliminato, che i froci sono il male assoluto, scusate, gli omosessuali sono il male assoluto, eccetera. E' più carino dire, gli omosessuali. No, gli omosessuali come dice Feltri è un termine medico. Ma è più bello. No, bello è frocio. Non è bello. Bellissimo è frocio. Non lo è. No, no, frocio è meraviglioso come termine. Gay è un termine inglese, dunque chi se ne frega, però gay è elegante, no? Dunque dire gay ha una certa eleganza. Omosessuale è un termine, io sono feltriano da questo punto di vista, però poi mi adego e ogni tanto dico omosessuale, gay. Per esempio finocchio non capisco, sì so che adesso mi dirai l'origine della parola finocchio, bruciare, là le cose, finocchi. Finocchio sì, non è proprio elegantissimo, però, e poi uno quando dice di solito finocchio lo fa per offendere oggettivamente. Ma anche frocio? No, frocio no. Io quando dico frocio no. Dai Giuseppe, non ci credi neanche tu a questa cosa. Ma lo sai perché mi fai venire dei dubbi? Ogni tanto qualcuno mi fa venire dei dubbi, perché è il retaggio culturale che abbiamo. Ormai abbiamo, ci hanno inculcato, dentro, ma sì la cultura che va per la maggiore, dai, la cultura che va per la maggiore, ma non è solo la cultura progressista, appartiene a tutti. La cultura che dobbiamo essere nel linguaggio moderati, che dobbiamo cercare di non offendere nessuno, anche quando non ci rivolgiamo a una singola persona, ma a gruppi di persone. E che il linguaggio pubblico deve essere un linguaggio polit, deve essere un linguaggio pulito. Questa cosa qui ha talmente oppresso i cervelli, noi che abbiamo timore di offendere qualcuno, di prendere un'acquarela, di andare a un tribunale. Anche a me è venuto il terrore, dopo tanti anni ho il terrore che qualcuno mi porta in tribunale, perché non sai mai come va a finire. È una giungla infinita, in cui spunta un giudice e dice, cazzo tu hai detto stronzo a uno, sì giudice, però abbi pazienza. Io l'ho detto, ma l'ho detto anche altre centomila volte, altre centomila persone, però lui si è incazzato, si è sentito male e si è depresso. Ho capito? Ma se gli ho detto stronzo e si è depresso, sarà un problema suo o mio? Beh vabbè, è una cosa diversa, una cosa è dire stronzo, una cosa è utilizzare un termine su una comunità che si sente marginalizzata e che è marginalizzata in qualche modo. Ma sono marginalizzata i gay? I gay sono marginalizzati? Ma i gay sono al dominio ovunque, c'è una presenza, ma giustamente, ma se sono marginalizzati i gay, allora ragazzi, allora io che sono? Cioè, tu che sei? No, ma dico, anch'io sono un po' marginalizzato dalla cultura, diciamo, marginalizzato, insomma, alcuni mi vedono come una sorta di mostro, come la persona volgare, con una persona che non potrebbe andare nei programmi un po' più decenti e dice no, perché quella là poi la dice grossa, no? La spara grossa, non possiamo controllarlo. Qualcuno lo pensa, anche in molte aziende dove io lavoro, che io sono un pericolo pubblico. Che sei incontrollabile. Che sono incontrollabile, un po' me ne vanto io di questa cosa. Ma è evidente che te ne vanti, perché comunque le stesse idee le potresti esprimere in modo diverso, ma è evidente che invece cerchi sempre un po' la frizione sulle cose. No, ma questa è una parodia che fanno di me che io non accetto. Che non accetto? No, non è che non accetto, è che io sono consapevole del fatto che qui siamo in teatro e che dunque, però cerco di essere me stesso al 100%, non c'è nessun eccesso rispetto a quello che penso. Cioè, devo fare spettacolo, ma non è che lo faccia a ogni costo, anzi spesso quando vado, adesso stasera no, perché magari sono in vena, però ogni tanto mi accusano di essere diverso rispetto a quello della radio. No, allora dico, no, allora la radio fingi, no, è semplicemente perché sono stanco e non è che posso fare cinque ore di show continuamente. Però no, io non penso di essere un pericolo per qualcuno, anzi spesso nei posti in cui vado sono molto aziendalista. Ho un contratto con Mediaset e penso di essere super, super, diciamo, non penso di essere un pericolo nella maniera più assoluta. Vabbè, a Mediaset, diciamo. Allora, che c'entra Mediaset? Che c'è a Mediaset? No, no, vabbè. Ti fa schifo Mediaset? Un po'. Ah, ti fa schifo Mediaset? Ma... Una notizia questa qua. Ma Asala, due punti, un po' mi fa schifo Mediaset. No, allora, non è che mi fa schifo Mediaset. Ma Mediaset è stata la libertà, è la libertà assoluta. Poi con i suoi limiti, come tutti, ogni azienda ha i suoi limiti. Vuoi rimettere con la Rai? Non c'è paragone. No, però devo dire che alle volte mi capita di guardare dei programmi... Tipo, cos'è che non ti piace? Diritto rovesse. Fuori dal coro non mi piace. Fuori dal coro è il programma più straordinario realizzato negli ultimi anni. Giuse, è una merda. Ma questo è il progressismo del politicamente corretto. Ma perché? Ma cos'è sto politicamente... Non è una merda nella maniera più assoluta. A parte che i programmi vanno giudicati in primis dal fatto che funzionano o non funzionano. Perché tu che sei... Hai detto all'inizio di questa conversazione, chiamiamola così, conversazione, che sei uno, il capitalismo, il mercato, allora la prima cosa che dovresti vedere è un programma funziona o non funziona? Funziona. No, però ci sono sempre delle regole sulle cose. Ma le regole chi le decide? Che vuol dire quali sono le regole? Vabbè, quindi io sono un capitalista e allora mi metto a frustare i miei dipendenti, io non li pago. Ma poi c'è l'amica Giordano frusta i dipendenti. No, ma non ho mai detto questo. Cioè, che discorso è? Però non è che sei un capitalista e quindi vale tutto. Anche perché l'immagine di Giordano che frusta qualcuno può. È un'immagine... Noi non lo metto a Giordano. È un'immagine inquietata. Io sono molto amico di Mario e sono molto orgoglioso di essere, di conoscerlo da tanti anni. Allora, gli fai una domanda per me, innanzitutto. Poi parliamo anche... Ma tu sei un bigotto tremendo. Io non sono un bigotto, io sono uno che pensa che Giordano fa schifo. Io sono un liberale. Se tu devi guardare Giordano come un grande show. Uno che porta, uno che porta, che trasforma ogni parola in una cosa scenografica, in una cosa scenografica, mettendo in campo ballerine, ballerini, cori, gente che canta, telecamere che girano da una parte all'altra. È uno show che costa un sacco di soldi. È una roba geniale, da solo fondamentalmente. Praticamente non dico senza ospiti, ma senza il talk normale che si vede ovunque. Non riesce a tenere testa, nello stesso da serata, che cazzo c'è con lui? Il martedì a Floris e alla Berlinguer. Ma il problema è le basi dalle quali parti. Cioè, se tu inizi un... A me è capitato di fare... Allora, innanzitutto la domanda che vorrei porre lui, perché poi mi dimentico è, perché c'è sempre gente messa così nei suoi... Cioè, nel suo set. Lui parla e c'è sempre gente messa così, arrabbiata, tipo... Beh, certo, perché è uno show di gente incazzata. Incazzata, ok. Cioè, non cercavo di capire questo dettaglio. Le cose che funzionano di più in televisione è dove qualcuno si incazza. Ma guarda che si incazza gente ovunque, ormai è un format che non è che quelli che fanno i fighetti a sinistra, anche loro creano le contrapposizioni di gente che si incazza. No, no, ma guarda che tu mi stai... Ma guarda che la scena... I talk show sono una grande sceneggiata. È come stare a teatro. Tu pensi che ci sia qualcosa... No, non me sono d'accordo. La gente prende troppo sul serio i talk show. No, 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 ma io sono d'accordo. Se non prendi sul serio Giordano non ti può fare schifo. Devi ammettere che è una cosa nuova, che non c'era fino a qualche anno fa, è una cosa originale, che produce risultati, anche se costa tanti soldi, perché comunque costa mandare le telecamere ovunque, montare i servizi in un certo modo. Sì, vabbè, ok, che c'entra. E poi cosa ti fa schifo? La battaglia contro i vaccini, sacrosanta. No, aspetta, non continuano a mettere carne sul fuoco, piano piano, piano piano. Però la cosa che mi fa schifo, ad esempio, no, che mi fa schifo l'hai detto tu, che non l'ho detto tu, che mi fa schifo veramente. Come no, l'ha detto lui, adesso si tira indietro, l'hai detto a mezza bocca. Lo tagliamo e mettiamo la sua voce mentre parlo. No, non puoi tagliare qua, mi ha detto prima, quando siamo entrati mi ha detto, io gli ho detto ma possiamo tagliare qualcosa dopo, ho fatto no, non si taglia niente, vabbè, non si taglia niente, ok, no, perché se dopo vuoi tagliare qualcosa qualcuno riprende con i telefonini e dunque riprendendo quei telefonini può uscire fuori quello che dici lo stesso e dunque è controproducente. Hai ragione, è un ragionamento perfetto. Perfetto. Infatti sono d'accordo, però non è che puoi tagliare la tua battuta adesso. No, sto scherzando, sto scherzando. Giordano mi fa schifo, questa è la cosa, è legittimo, per carità. Ho detto fuori dal coro mi fa schifo, non Giordano. No, no, sì. Beh, no, adesso vediamo se hai detto questo, poi andremo a fare. Faremo la VAR. Ok, chiunque abbia registrato i ricontrolli adesso. La VAR, la faremo la VAR. Faremo la VAR. Il problema è partire sempre dalle basi, dalle basi sbagliate. Cioè, se tu costruisci un intero... Io sono ossessionato dai dati, sono ossessionato dalla verità delle cose. È proprio una mia roba. Una mia, che tragedia. No, è così, è così. I dati, io se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che ti presentano i dati. Ormai fanno tutti i fighi, questi qua, Masala e altri. I dati, ti presentano i dati. Poi chi li presenta, come li presenta, da che parte li presenta. No, no, ti assicuro che noi siamo scientifici su questa cosa qua. I dati, presentano i dati. Mi fanno impazzire queste cose, vado fuori di testa. Uno che mi presenta i dati, uno che mi presenta i dati, sei vincolato ai dati. Ogni ragionamento è ancorato ai dati. È certo, perché è ancorato alla realtà. Come quelli che ti dicono, c'è questo paper universitario che dice questo. Già hai parlato di paper universitario, dunque via, compari. Questo paper, c'è un paper universitario. E' come quelli che dicono, sai, ogni tanto spuntano fuori. A DNA Cronos, l'università di Oxford dice che per scopare di più dobbiamo mangiare 30 grammi al giorno. Dico, ho capito, ma dove c'è? Cioè, poi vedi fuori questa cosa è 600 persone interrogate in Gran Bretagna. Ma infatti devi andare a vedere la base, su cui è stata fatta, il campione, su queste robe qui. Io ho un po' l'ossessione di partire dalle cose. Certo che si vede. Se tu inizi a costruire uno show fantastico, con mille videocamere attorno a Giordano, che ruotano, bellissimo. Però poi di fatto non stai portando, cioè io non sto imparando niente, sto disimparando a delle cose. Secondo me quello è comunque un danno. Errore tremendo, pensare che uno in un talk show debba insegnare qualcosa a qualcuno. Ma certo. Ma certo che. Approfondimento. Si chiama approfondimento. Ma tu chi è? Ti hanno fatto un lavaggio del cervello pure a te? Ma chi? Ma la televisione non deve insegnare niente a nessuno. Se vuoi imparare qualcosa. Vai a fare, al limite, anche lì bisognerebbe discutere, una bella lezione all'università, una lezione privata da qualcuno. Ma la maggior parte delle persone non va a farsi. Ma secondo te un talk show deve insegnare qualcosa a qualcuno? Ma certo. Ma questo è il progressismo, quello alla Saviano, alla Formigli, che pensa che dal talk show debba uscire questa è la verità. Ma che siete matti? Ma il talk show deve essere una grande rappresentazione scenografica, una grande pièce teatrale, che si dipana purtroppo in tre ore di trasmissione ormai, se non di più, anzi tre ore e qualche cosa, e che deve lasciare incollati più o meno le persone al teleschermo. Se tu vuoi che da questa cosa qua, da questo coacervo di scontri, di opinioni, esca fuori la verità, significa che fai torto alla tua intelligenza. E siccome intelligente sei, non puoi pensare che da un talk esca la verità. Questo è. E so che loro sono d'accordo con me. Cioè questo, no ma lo so, è un po' debole quest'applauso. No, è debole perché purtroppo ci sono i masaliani. Ci sono i masaliani. I masaliani oppure quelli fissati col fatto che un talk debba produrre verità. A parte che Giordano non è un talk. Appunto, dico, a maggior ragione. Ma fanno le trasmissioni. Ma bellissimo, Giordano che urla, è una cosa straordinaria. No, ma chi se ne frega di Giordano che urla? Va bene, quella telecamera lì, Giordano che urla. Donato! Anche lì è una trovata eccezionale. Ma porca miseria. Ma è una trovata scenica e, come dire, autoriale meravigliosa. Cioè, rivolgersi al tuo regista per nome non è il primo che l'ha fatto. Ma anche lì perché nessuno si inventa niente alla fine, no? C'è tutto un prendere da qui, un prendere da lì. Però lui qua è stato geniale perché lui ha un continuo, non avendo un ospite fissi, ospiti fissi là, ma dovendo lanciare continuamente servizi, urlare, dire la sua, eccetera, avendo ogni tanto delle spondi. Io sono andato. Io quando vado, praticamente riservo solamente come puncible e basta. Cioè, sto lì, dice due minuti, dico una cosa, dopo trenta secondi togli la parola e dici vabbè adesso andiamo a vedere quel servizio. Allora, tu che ne pensi? Eh ma eh, no basta, però adesso andiamo da quel. Tutto così, sei inutile. Cioè sei lì, inutile, totalmente pagato, ma inutile. Però sarai d'accordo. Quello sempre. Certo perché. Però sarai d'accordo che se mandi i servizi, cioè non stai facendo semplicemente una roba così, ma i servizi. Ma i servizi sono la cosa più faziosa che esista. Cioè i servizi. Se li fai male, certo. Ma sì, ma sono faziosi, comunque la prendi. Sono servizi che partono giustamente a tesi. Devi andare perché pensi che servizi che fanno Piazza Pulita o altre. No, ma non facciamo sta roba di voi di sinistra. Ma no, ma per dire, quelli che sono, come dire, i naturali oppositori, quelli che vogliono fare i talk show presentandosi come stasera, vi raccontiamo cosa è successo. No, non racconti cosa è successo. Stasera metti uno di destra e uno di sinistra e speri che litighino. Per fare finta di dire no, però stai zitto. No, non è vero. Però questo non lo puoi dire. Questo non lo puoi dire. Questo no. No. Questo, però stai esagerando. Vittorio, Vittorio, stai zitto. No, questo non lo dire. Ma cazzo, ha invitato Sgarbi, che cazzo vuoi che faccia? Ma quello... Io divento pazzo, guarda. Allora, è così. E capisci che il problema... Quello mettono. Un signore che si chiama A.S., ogni riferimento è casuale. Sì. E dall'altra parte un signore che si chiama Vittorio Sgarbi. Sì. Poi dici, ah, però non potete fare così. Ma che vuol dire non potete fare così? Lo sapevi prima. Ma è un altro discorso. Ipocrita di un ipocrita, dico in generale. Giuseppe, è un altro discorso. Allora, una cosa è piazza pulita, visto che hai citato Formigli. Ma sì, la stessa cosa. No, no, no. Facciamo il servizio in cui andiamo a vedere cos'è accaduto, il barcone si è rovesciato, la gente che dice ho recuperato, le persone. Sì, però c'è la musica sotto drammatica, no? Cioè, vabbè. E poi il governo che fa? Sì, va bene. Però, però, aspetta. E che è questa roba qua? Fermo. Dai, ragazzi. È come Sant'Oro. Però stai mostrando quella cosa lì. Cioè, tu stai mostrando la verità. Se tu mandi... La verità, che vuoi di stai mostrando l'idea? Stai mostrando le immagini che scegli tu cosa mettere, le monti come vuoi tu, con la musica che vuoi tu, con le tesi che vuoi tu. Se ti vuoi inculare il governo perché dici che c'è stata la strage a Cutro... Senti le persone che pensi che sia opportuno per questa tesi, la musica drammatica sotto, le domande fatte in calzanti e il ritorno in studio, con i morti dietro, no? E il governo? No, ma allora, questa è una stonzata. Questa è una stonzata. Scusate se sta succedendo un casino, però devo dirla sta roba. Una cosa è mostrare, cioè i video, cioè riprendo il video, quello che è successo e poi c'è la tesi, sicuramente che può essere di destra, di sinistra, meloniana, contro meloniana, va bene. Una cosa, e come mi è capitato di vedere, che non sarà appena male Giordano, lo salutiamo che sicuramente poi si stava seguendo. Adesso stai cercando di recuperare. No, 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 ma un grande amico, ci sentiamo spesso. Eh, infatti. Che mandi la tua persona a dire, ah, guarda, siamo in Francia, qui non c'è il problema migranti, che non è vero, e intervista le persone che dicono, no, no, in effetti qui migranti non ce n'è. Intervisti quattro persone, questo è il servizio che va a fa culo. Cioè tu dici che è troppo a te, sicuramente. Io preferisco una cosa così. Ma come preferisco una cosa così? Io preferisco una cosa che sia esplicitamente così, piuttosto quelli che ti vogliono far credere di fare qualcosa di imparziale, ma in realtà te lo vogliono mettere in culo lo stesso. Ma non è imparziale. Io preferisco la estrema parzialità a tesi di Giordano, adesso parlo seriamente, piuttosto di quelli che ti vogliono far credere, noi sentiamo tutti, questa è la realtà, e in realtà ti vogliono fregare uguale, offrendoti una realtà parziale che è la loro. Secondo me non è un discorso di essere senza battute, volere essere parziali. C'è qualcuno che ovviamente fa il lavoro in maniera super onesta, molte persone fanno il lavoro super onesta. Chi è ad esempio che ti piace? No, ma a me non piacciono tutti, non piace nessuno. A me piace... Qualche scelta che fa la Gruber ogni tanto mi piace pure, mi fa in generale, è una cosa penso la più schierata in assoluto dai titoli, dal conduttore in tutto. Lili Gruber è sicuramente schierata. Ha una sua identificazione molto chiara, ha un pubblico che si identifica là e vuole quello di destra messo in mezzo dalla Gruber, in questo caso il mio amico Italo Bocchino, che fa là, però è consapevole di fare quello di destra che sta lì, bersagliato da tutti, si difende bene, anzi giganteggia rispetto agli altri. Giganteggia? Sì, ma Italo Bocchino è un gigante. È un gigante? Assoluto, un gigante, un grande combattente è un gigante. Ale. Gigante assoluto. Ok. Italo Bocchino è un libertario vero in tutti i sensi, libertario vero, altro che fascista, ma qua è fascista. Ma come è libertario vero che è lì a difendere Giorgia Meloni, che è conservatorismo totale? Difende da Meloni, è dalla parte del governo Meloni. Difende da Meloni, nel senso, in Italia c'è questa questione qui, dei giornalisti che diventano un po' militanti. Infatti che Italo Bocchino non è un giornalista, ma è uno che è stato deputato, non è proprio un giornalista. Tu dici che c'è il problema dei giornalisti militanti. Quasi tutti, quasi tutti. Ci sono i giornalisti militanti, sinistra e a destra. Nel senso, se Italo Bocchino, ma anche altri, adesso non ce l'ho con lui, oppure un Montanari, per dirtenere uno di estrema sinistra, invece di essere giornalista, professore, eccetera, fosse esponente di un partito. Sarebbe uguale, direbbero le stesse cose, vengono invitati in virtù. Ma ogni tanto però, non è che tutte le posizioni sono fatte, ad esempio il professor Montanari, che magari molti di voi non conoscono, un professore che siete degli ignoranti magari. No, scherzo, perché non seguite l'attualità, questo è che ogni tanto noi siamo fissati su questa cosa qua. Nel nominare persone che pensiamo che la gente comune riconosca. Se tu, veramente, se tu chiedi a una persona che a me è molto cara, che è l'usciere del sole 24 ore, che si chiama Jordan, probabilmente che è una persona che ha fatto anche il musicista, una persona con cui sono entrato in, non dico in intimità, no, adesso non esageriamo, però, insomma, sono entrato in, io, più feeling con, spesso con le persone comuni, piuttosto che con le persone altolocate, no? E se tu chiedi chi è Montanari, tu dici ma chi cazzo è Montanari? Ma questo vale per Montanari, per fare un esempio, mica perché, ma come anche per altre persone che noi spesso nominiamo nelle nostre trasmissioni e che non conosce nessuno. Questo non significa nulla, però spesso noi giornalisti, noi del mondo della comunicazione, questo me l'accorgo quando io, magari frequento, perché la maggior parte delle mie amicizie sono al di fuori di questo mondo, no? Le persone che io frequento spesso non conoscono i personaggi che noi nominiamo e che magari anche io mi trovo a nominare sempre meno o che nomina David in trasmissione, no? Dice, quel giornalista là, ma chi lo, cioè, sono delle cose che sono, se, viviamo spesso in, no, in delle cappe di, no, delle bolle, no? Nelle nostre bolle e non ci rendiamo conto che la maggior parte delle persone, dell'opinione di Montanari, non gliene è fotto un cazzo adesso, per dire... No, no, ma quello sicuramente... C'è tutta questa polemica di questi giorni che interessa solo noi, io sono sicuro che la maggior parte delle persone, nemmeno è sfiorata dall'idea... Cioè, Montanari che non ha messo la bandiera... C'è il lutto nazionale per Berlusconi che non voleva mettere la bandiera a mezz'asta, ma ti pare un problema di cui la gente comune si occupa? Non gliene frega un cazzo a nessuno. Noi ne parliamo perché è un elemento divisivo, però le persone normali lo devi ridurre in pezzi poi questo argomento, capito? Per renderlo comprensibile, lo devi ridurre ai minimi termini. C'è uno che non vuole mettere la bandiera a mezz'asta perché io sta sul cazzo Berlusconi, questo è il modo migliore per rappresentare quella posizione, capito? Questo sarebbe il modo migliore. Poi anch'io sono preso dal desiderio di spiegare di più, una cosa tutta progressista naturalmente, di dover spiegare la complessità, le cose, spiegare... Quindi vedi che ce l'hai dentro? Ma sì, ce l'ho dentro perché nella mia formazione comunque io sono stranamente laureato e ho una vita così, che non è che vengo da una famiglia borghese, non è che vengo da una famiglia proletaria, per cui ho fatto l'università, i miei hanno fatto l'università, liceo classico, eccetera. Per cui non è che vengo dal popolo, vengo da una famiglia borghese, anche abbastanza benestante, che mi ha permesso di fare tutto. Per cui... Però noi spesso facciamo dei ragionamenti come se dovessimo, capito? Come se dovessimo... E diamo per scontato, per esempio, i progressisti stanno sul cazzo quelli che guardano Grande Fratello. Per esempio, no? A te ti sta sul cazzo Grande Fratello, sicuramente. No, no, no. Non sto, ma sì. No, no, sì. Io sono grande fan di Pechino Express. Ecco appunto, è tipico dei progressisti. Ma non è vero, ma non è vero. Cioè, tipico, ti giuro. Non è vero. Se potevo scommettere su una reality, chiamiamolo così, che ti andasse a genio, avrei scommesso su Pechino Express. Perché? Perché è la cosa più fighetta. Ma non è vero. Sì, è la cosa più fighetta, più perfettina, dove non succede niente di strano, dove sì c'è una gara, dunque in realtà non ti metti manco troppo a nudo, cioè non scoreggi, non dici parolacce, non bestemmi. Invece succede al grande fratello, che di notte, no? Allora, tu ti stupirà, che io in realtà vengo da una realtà molto popolare. Sì, no? Io ho molti contatti con il mondo che tu hai definito popolare, a me piace tantissimo. Io ho l'ossessione del paese reale. E ne parlo di continuo. Sì, no, ma questo adesso, al di là di questo... Volevo rompere questo personaggio che mi sembra che ti stai creando. No, sì, un po', il fatto che ti piace Pechino Express è tipico del progressismo italiano. Sì, sì, è proprio... Sì, non è che vai in prima serata in prime time, Pechino Express, prima serata sul canale 5 non andrebbe, no? Prima sul canale 5 c'è il grande fratello, invece, è una grande saga popolare. A te piace molto il grande fratello? No, io in realtà lo vedo molto poco, il grande fratello lo vedo poco, però ci sono persone che conosco, che mi raccontano per filo e per segno cos'è il grande fratello e che sono entusiasti dei personaggi del grande fratello, hanno più, hanno meno, e mi raccontano e capisco, e da quello capisco la passione popolare, o comunque l'interesse popolare per avere un'ora, due ore di svago in cui non devi pensare ai problemi del paese, ma pensi a quella che si scopa quell'altro, quell'altra che si è fatta le dette, e come se le fatti, e quell'altra che parlano, e quella è la roba, cioè... Oppure un'altra cosa che mi è capitato di vedere, non dico che sono fan perché non è vero, però posso fingere, ed è Temptation Island. Sì, ma non sei un fan di Temptation Island. No, mi hanno offerto, in realtà mi fa un po' cagare, però... Mi hanno offerto, mi hanno offerto un sacco di soldi, però io a Temptation Island... Se tu hai a Temptation Island, io guardo Temptation Island. Sì. Ma fortissimo! Sì! Qual è il tuo percorso? Come hai iniziato a fare questo lavoro? No, te prego, non ce la faccio. Non ce la fai? Ma io ho iniziato per caso, io non volevo neanche fare... Non sapevo che fare, a un certo punto. Mi sono laureato stancamente in Scienze Politiche con una tesi su Sandero Luminoso, con il Movimento dell'Estrema Sinistra Peruviana. Dunque mi occupavo di estere, di queste cose inutili. Poi a un certo punto... Perché non ti interessavano? Ma sì, mi interessavano, però era un po' elitaria come cosa, interessarsi di cose peruviane, cioè, no? Una cosa folle, adesso se ci penso dico come cazzo ho fatto. Ma che vita poteva essere se avessi seguito quella roba lì? Un esperto in Perù. Un esperto in Perù? Saresti diventato esperto di Sud America. Ma sì, esperto di Sud America, per carità, va benissimo, però sarebbe stata una tragedia. Ok, non te ne fregava niente. Una tragedia economica soprattutto. E c'era questa professoressa che si chiama Cantù, all'Università di Roma, a Storia dell'America Latina, che era una signora già anziana, che io seguivo le lezioni, andai e dico io voglio fare una tesi su Sandero Luminoso, ma è troppo attuale, fatta adesso, io voglio fare questa. E lei, siccome nessuno faceva la tesi in Storia dell'America Latina, no, nessuno, poche persone, e feci questa tesi, che ancora adesso ce l'ho lì nello scaffale, e niente, per cui ho fatto questa tesi, poi ho iniziato a scrivere sui giornali, poi a un certo punto, anche lì, mi annoiavo, mi assunse Vittorio Feltri all'Indipendente, tanti anni fa. Facevo la cronaca di Roma, ma io da radicale rutelliano andavo a fare la campagna elettorale Rutelli contro Fini. Ok. Però dovevo incularmi, tra virgolette, Rutelli. Perché tu ti favi Fini? No, io non ti favo Fini, ti favo Rutelli. Ti favo Rutelli. Votai per Rutelli. Ok. Rutelli Fini, vedi come cambiano le cose, o comunque come non sono così definite. Perché io odio quelli che ti mettono i timbri in testa, tu sei così, sei colai, hai votato questo. Che è quello che tu stai facendo con me tutta la sera, però. Ho fatto, l'ho fatto un po'. L'ho fatto. No, ti ho definito solo progressista, non è che... Hai detto, sono progressista. Sono progressista. Mi piace il Pechino Express, mi fa schifo Giordano, tre indizi fanno una prova. Sicuramente hai votato PD. Non l'ho votato PD. Hai votato, peggio ancora, 5 stelle, no? Manco 5 stelle. Ti può dire quello che hai votato o no? No, non si può dire. Non si può dire, vedi? È una cosa incredibile, l'altra... Perché tu cosa hai votato? Io ho votato Vittorio Sgarbi, la lista di Vittorio Sgarbi. Ma porca, ma come hai votato Vittorio Sgarbi? Io quando vedo il nome Sgarbi e Berlusconi, e Berlusconi, automaticamente mi viene di mettere la cosa sopra. Appena vedo Berlusconi, metto la cosa. Perché alla fine Berlusconi è meglio di tutti, capito? C'è stato il meglio di tutti. Sì, assolutamente. Mi faccio detonare. Cioè, rispetto agli altri, è stato un gigante assoluto. Un gigante totale. Poi con tutti i suoi difetti, tutti i suoi problemi, tutte le sue contraddizioni, tutte le sue conflitti di interesse, quel metto ciò, ma rispetto agli altri, se io devo scegliere da chi farmi governare, tra Berlusconi o D'Alema, ma mi taglio il sangue col sangue che esce per Berlusconi ancora oggi. Ma una cosa che io chiedo sempre alle persone che mi dicono così. È dal 94 ad oggi. Cioè... Che ha fatto? Sì. Un cazzo. Però, però... Quello però, diciamo, è in buona compagnia. La realtà è che gli italiani giustamente guardano il portafoglio, no? Se uno guarda il portafoglio, oggettivamente le tasse sono sempre uguali, se non peggio. Dunque, nessuno ha fatto un cazzo, no? La burocrazia è sempre uguale, abbiamo una tastazione pazzesca che ci rompe i coglioni, eccetera. Però almeno Berlusconi ha rappresentato l'idea che potesse essere una cosa diversa. Per esempio, la tassa di suoi... Vi rompe i coglioni su una cosa che ho letto l'altro giorno, no? La tassa di successione. E cazzo, la tassa di successione sarà anche per i cazzi suoi, certamente. Adesso, infatti, pagheranno poco, no? Oggi ho letto una cosa, no? I figli pagheranno poco la tassa di successione, ma meno male. Perché vale per tutti anche. Non vale solo per lui, vale per tutti. Sai che io sono per una forte tassa di successione? Quattro, però. Quattro indizi. E so quattro. Avrai votato i verdi. Che hai votato? Verdi? I verdi. Verdi, sell, queste robe qui. Però sono per una forte detassazione. Che vuol dire? Ah, tu dici di tassare i stipendi, ma i patrimoni. Io i patrimoni lascerei stare. La gente, i patrimoni, anche se sono frutto di eredità, ma perché devi tassare i patrimoni? Paghi le tasse sulle case, paghi le tasse sulle case che ci sono, che ci sono, punto e basta. Perché devi stimolare le persone che vogliono creare. Perché mio padre mi lascia quattro appartamenti? Perché lo Stato mi deve rompere il cazzo con questi quattro appartamenti? Sono miei e ci faccio il cazzo che voglio e soprattutto, non solo, e questo è consentito. Sì. Ma perché devo pagare perché mio padre mi lascia quattro cazzo di case? Ti pago il giusto, non le tassazioni dell'Europa, della minchia, che le tassa, non so a quanto, in molti paesi. L'Italia è bassissima perché Berlusconi ha voluto che fosse bassa e ha ragione, ha fatto bene al togliere la tassa di successione. E infatti questo paese è lento su tutto, perché effettivamente tante persone... Perché non c'è la tassa di successione. No, perché è un discorso di chi contribuisce di più e chi contribuisce di meno. Se tu detassi le aziende e le aziende possono investire... Stiamo facendo un discorso troppo serio. Io sono a favore sempre di meno tasse possibili, immagina. Meno Stato, meno tasse. E effettivamente su questo fronte Berlusconi non ha fatto un cazzo, te lo riconosco. Meno tasse, meno Stato. Però sempre. Cercavo di dimostrarti che non è semplicemente che io voglio la tassa di successione perché voglio più tasse. Le toglierei da una parte e le metterei dall'altra. Se già troppo sui fatti, le analisi, i professori, le cose... Io parto da un principio, la tassa di successione è sbagliata secondo me, perché di principio è giusto avere un po' di tassa di successione, è chiaro, ma se tu mi rompi i coglioni con il 20%, 25%, quanto io ero, poi spesso le persone non ce l'hanno manco questi soldi. Se io reddito 4 case, 5 case, lasciami queste 5 case e ti do quello che è adesso, il 2%, quello che è, qualcuno lo sa, quanto è la tassa di successione? 4, benissimo, bravi, 4, manco lo so. 4% e sto a posto, perché ti devo dare di più? Dai, questo ha fatto bene Berlusconi, per i cazzi suoi l'ha fatto, ma va bene. Che spesso i suoi interessi però concidono anche con quelli di... Guarda caso, sì. Vabbè, questo è facile, però è anti-Berlusconismo così spiccio. No, no, ma perché? Non nel senso, io anti-Berlusconismo... Vuoi negare che Berlusconi sia stato perseguitato dai giudici adesso? C'è stato rincorso del... Tu vuoi negare dall'alto della tua intelligenza che Berlusconi sia stato perseguitato dai giudici, che si sono incaponiti su Berlusconi per farlo condannare? Vuoi negare questa evidenza che ormai pure la gente di sinistra lo riconosce? Allora, posso rispondere in maniera complica... Perché cosa sta succedendo? Mi stai facendo una domanda. Sono abituale. Secondo me c'è stata una... Non è una persecuzione, c'è stata una certa volontà di perseguirlo. Ah, bene. Ma non che non ci fossero delle basi sulle quali farlo. Le basi è perché mettono la testa dentro il breaking italy qualcuno che... Vabbè, se permetti... Cosa succede? A livello fiscale è tutto, cioè chiunque, dai, su. No, ma lo vedi che... La naturale tendenza dell'uomo, le tasse sono bellissime. No, no, la naturale tendenza dell'uomo, stavamo andando bene. La naturale tendenza dell'uomo è quella di pagare il meno possibile. Certo. E tu lo devi obbligare in qualche modo. Devi creare dei sistemi. Sì, ma l'illusione, il... Se la gente sta meglio, la gente sta meglio... Poi c'è un discorso complesso, adesso lo stiamo riducendo poi in minimi termini, però io penso che sia abbastanza naturale quello che lo Stato debba facilitare la vita dell'uomo e rendere... Ovviamente offrire dei servizi, ma i servizi che offre lo Stato non sempre, ma sono scarsi. Questo è il punto. Non per mancanza di soldi, per la burocrazia e per lo spreco. Sono scarsi. Poi uno può dire ci abbiamo la sanità. È vero, la sanità italiana molte volte è una sanità che non è paragonabile ad altre cose, perché comunque è un'assistenza gratuita, eccetera, eccetera. Poi... Ah, guarda tutte le parti. Però per fare queste robe qui c'è una necessità di redistribuire. Vabbè, quello... Sì, certo. Anche con una tassa di successione, perché... Ma infatti si paga... No, per me va bene quella che c'è adesso. Va bene, cambiamo argomento, dai. Ok. O no. Quindi, ok, sai che mi incuriosisce un pochino il fatto che tu abbia iniziato a fare il giornalista un po' a caso? Sì, un po' a caso. Avevo un'idea di te su questo elemento. Della passione, dici? Ah? Della passione. Sì, sì. L'ambizione. Voglio cambiare il mondo. L'ambizione cambia... No, assolutamente no. Assolutamente no. No, voglio cambiare... Volevo cambiare la mia vita a un certo punto. Volevo cambiare la mia vita a stare bene, stare bene, guadagnare, ma mi sono reso autonomo da giovane, più o meno, secondo gli standard, insomma, però già con una base concreta, ma non voglio dire che mi sono fatto da solo perché ho avuto tutto l'appoggio possibile e sono un privilegiato. Io non sono di quelli che dice no, ma io sono un privilegiato assoluto. I miei mi hanno dato tutto l'appoggio possibile, mi hanno regalato una casa, mi hanno dato tutto l'appoggio, dunque non vengo dal basso, diciamo. Però poi le mie cose me le sono costruite da solo, cioè quello sì. Credo che forse sia lì il discorso. Quindi tu non senti una responsabilità di nessun tipo nei confronti del tuo pubblico, delle cose che fai? Ah, vedi, è lì la differenza. Zero responsabilità. Tu invece ti senti investito da una responsabilità? Tantissimi, lo sento, ho il peso del mondo sulle spalle. Mamma mia, ma è una patologia vera. Uuu, non hai idea? Cioè è una patologia... Cioè tu ti senti responsabile di quello che dici perché pensi che noi quando diciamo influenziamo le opinioni pubbliche, dunque da quel punto di vista dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, a come lo diciamo, ai dati che offriamo, perché c'è l'idea della verità. Guarda che è una patologia veramente grave questa. Ma non è che tu sei quello delle cose brevi. È il progressismo questa qua. No, ma è la fissa, è la malattia la tua. Il precisismo, no? È un'altra cosa, adesso non so come definirlo. Ma ce l'hai anche tu però, però è cose diverse. No, io voglio, io identifico, io mi voglio, innanzitutto a un certo punto ho pensato, ma nemmeno ho pensato, sono ritornato un po' bambino, perché senti alcune trasmissioni che non voglio sentire mie del 2006, del 2007 ti metti paura perché ero uno appunto una specie di vigile urbano, non dico ossessionato come te dai dati e dalle cose, però ero uno che distribuiva il traffico alla radio. Poi a un certo punto improvvisamente sono, non so cosa è successo, non lo so identificare ma non mi interessa neppure rimuginarci troppo sopra, ho scoperto il mio animo un po' bambino, un po' ribelle, un po' primordiale e ho pensato che, ho pensato e mi è venuto di cominciare a parlare come se fossi al bar o come se fossi, o come se fossi in un luogo come dite, come tra amici e ho creato un grande club che è quello che in parte è rappresentato anche qui e sono orgoglioso di avere creato un qualcosa in cui le persone si identificano per linguaggio, perché si identificano nelle persone per come siamo noi, perché pensano che siamo veri, perché pensano che non fingiamo, che non vogliamo fare i professori, perché si identificano con i nostri vizi, con le nostre virtù, con le nostre debolezze che mostriamo quotidianamente, con i nostri limiti, con le nostre ignoranze, anche tu sei ignorante in parte ma non lo mostri, però cerchi di dare il meglio di te, no, noi cerchiamo spesso di dare il peggio di noi, di mostrare il peggio, non è vero, no, come no, sì, non è vero, assolutamente, io sono, tu hai più volte detto di essere, di stare male ad esempio quando fai una brutta puntata, di essere quasi tormentato dal fatto che l'hai fatta male, sì, la persona che vive con me sa benissimo che cosa significa questo, significa fondamentalmente non dormire, significa essere nervosi, significa non essere empatici con la persona, con le persone in generale, per cui significa non stare bene, cioè non stare bene, avere la testa in cui dici, cazzo, ma perché non ho fatto questo, perché non ho chiamato quell'altro, perché ho fatto intervenire quell'altro, questa cosa non mi è riuscita bene, questa domanda non è andata bene, è una malattia, è un'ossessione. E perché è così? E che devi fare, io sono fatto così, cioè... Eh, ma lo vedi che quindi c'è un interesse, è che l'interesse è in quello che fai. Infatti ogni tanto produco una, adesso lo dico, non faccio un, non mi faccio una grande pubblicità, ogni tanto, soprattutto d'inverno, produco, mi si squama un po' la pelle per questo tipo di ansia, e l'ansia, dunque c'è ogni tanto il cuoio capelluto che si squamizza tutto, si rende un po' seco, uno schifo tremendo, però io ogni tanto prendo queste pallottoline di squame, vedi che cosa terribile, splatter, bellissimo, però è vera, le persone non dicono mai i propri difetti, non li confessano, ma io confesso anche questo difetto, prendo queste, queste piccole crosticine che mi si formano, ma perché a nessuno non frega niente, nel senso... No, ma invece, perché no, ti sbagli, su questo ti sbagli, perché le persone si identificano nei difetti, perché ce l'hanno le persone i difetti, come tutti, no? Anche i difetti fisici, e le persone invece, se tu glielo racconti, non ti vedono più come dice, cazzo, questa è la star della radio, una delle star della radio italiana, e ti confessa che indossa le mutande per quattro giorni consecutivi. È come me, che sono uno zozzone, e che ho la strisciata di merda che mi porto per tre giorni, perché? No, perché esistono, o perché esistono pure queste persone. Ma certo, ma per carità, certo. E allora, perché non dare voce pure a questo tipo di umanità? Cioè, o tu perché non devi raccontare, poi puoi anche non farlo se fai una trasmissione diversa, ma è una trasmissione aperta, una trasmissione dove ci sono confessioni, cioè quando è che è scattato lo switch? Tu spesso uno si mette nella parte di chi intervista, e dunque devi far confessare a qualcuno una cosa, ormai va di moda questa cosa, ma era di moda anche dieci anni fa, quindi oggi è diventato un format. L'intervista per far a dire a uno, no, quelle belve o altre format così, in fin dei conti cos'è? Dice, tu intervisti a uno, l'obiettivo è fargli dire, ho pippato cocaina dieci anni fa, ho trombato mia nonna, adesso sto scherzando, ho trombato la mica di... Devi dire delle cose, fare delle confessioni. Sì, fare delle confessioni, noi siamo specializzati per anni in queste cose qua, e fargli dire, che ne so, ho visto una volta Robert De Niro e mi sono fatto una sega, poi mi sono fatto a casa un italiano, è tutto così ormai, no? Ok, è tutto così. È quasi tutto così. È tutto così. È quasi tutto così, se vai a vedere i format di oggi, sono così, c'è un'intervista come questa, in cui tu sei un po' diverso, infatti mi piace questa cosa, cercano di far dire a una persona una cosa che poi fa il titolo, no? C'è il famoso titolo, il clic, pezzettino, amendola, sniffavo cocaina, ma sti cazzi, ma che cazzo ce ne frega a noi, poi ho smesso per i miei figli, poi c'è sempre quella cosa là, perché non troverai mai uno che dice sniffo cocaina, troverai sempre uno che ha detto dieci anni fa sniffavo cocaina e poi per i figli sono cambiato, per cui applausi, applausi generali. non troverai mai uno che dice io mi faccio di cocaina, non lo trovi mai, mai nella vita, e dunque le confessioni sono sempre postume, come se io facessi per esempio un sondaggio qui, no? Tra queste persone che sono qui. Chi tra di voi tradisce, oggi non ha tradito, tradisce la propria compagna, il proprio uomo, la propria fidanzata, cioè alzate la mano, un deserto totale, ma sono dei bugiardi tremendi, perché è evidente, lo dicono le statistiche in un pubblico, quanti saranno questi qua stasera? Mille. Mille persone, è chiaro che almeno il 70% per una volta, è chiaro, per cui c'è un, ci sono dei bugiardi matricolati, dei mentitori professionisti, perché è così, per cui, però nel senso, questa cosa che hai detto è vera, cioè di mostrare dei difetti e delle cose, di mostrarsi veri, questa cosa. Per cui è meglio dire quello che uno è, però magari, ad esempio, è che si può dire il 100% poi, diciamo la verità. No, nessuno mai dice il 100%, mai a nessuno in generale, però ci sono delle cose, ad esempio, a me è capitato, magari tu non lo sai, loro lo sanno, io mi sono spesso aperto su questioni di sanità mentale, problemi, ansia, io soffro molto di ansia, questa roba qua. Non è progressista l'ansia, l'ansia non è una caratteristica, ma perché qualcuno dice a sinistra sono più buoni, no? Ok. Cioè, che è una cazzata, a sinistra sono più buoni, oppure sono più empatici, a destra sono più cattivi, in un'altra cazzata l'ansia però è trasversale. Ok, l'ansia, ah dici che l'ansia unisce tutti, ma quello sicuramente. Magari quello più interessante dei follicoli, tipo la strisciata nelle mutande, nel senso ma vedi anche qui c'è un tuo pregiudizio, è chiaro che poi non è che fai, però anche lì i vizi personali sono un po', potrebbero essere indice di qualcosa, io sicuramente sono una persona da questo punto di vista svogliata, no? Quando io ho fatto sempre l'esempio delle mutande, potrei fare di quello dei calzini e di tante altre cose, la cosa che mi impressiona è che quando dei giornali americani, anzi italiani fanno dei servizi su, diciamo, le persone sporche, no? Quelle che amano lo sporco, mettono sempre tipo i divi americani e poi mettono in Italia, Giuseppe Cruciani, ogni tanto si ripete questa cosa, c'è quello del WWF che dice che non tira la catenella del cesso per un giorno intero lasciando la merda, il piscio, tutto così dentro per motivi, però lui lo fa per motivi ambientali. Per non sprecare acqua? Che è una cosa ridico, io spreco tantissima acqua, me ne fotto, sicuramente. Beh, per compensare quello che fa lui? No, perché l'idea di non sprecare mi dà fastidio, cioè l'idea di... No, ma mi dà un fastidio enorme. Ma non la pensi? No, no, non la penso, io poi sono uno che non butta una carta per terra, quello sì. Ok. Però quello sarebbe così, ma l'idea che io possa contribuire, quella è un'altra delle cazzate che dicono progressiste di un fastidio, mi dà una cosa da ultima generazione, ultima degenerazione, come lo chiamo io. No. Bisogna usare meno acqua, ma li mortacci tua. Io uso il cazzo di acqua che mi pare, se voglio fare quattro docce, mi faccio quattro docce e non mi devi rompere il cazzo, non devo essere uno che viene bollato come un consumista o qualcuno che distrugge il pianeta. Quindi se... Mi faccio quattro docce e non mi rompe i coglioni. Quindi se un continuo scaricare responsabilità da parte tua, cioè non ti piacciono le responsabilità. Perché rispondo? Ma io non penso che sia una questione di responsabilità usare meno acqua, io uso l'acqua che voglio usare, punto, basta. Che mi ritengo necessaria, punto, basta. Poi se c'è un periodo eccezionale in cui viene deciso di una restrizione che riguarda tutti, ma il gesto individuale, il famoso gesto individuale, non so, non lo sopporto. Non lo sopporto, anche l'elemosina non sopporto, cioè l'elemosina non sopporto. Non lo so, perché mi dà un gesto in cui uno si pulisce la coscienza. Cioè, ho letto un bellissimo saggio una volta che era contro l'empatia, andatelo a leggere, in cui si sostiene che l'elemosina è l'atto più egoista che uno possa fare. Adesso sarebbe complicato spiegarlo perché è una cosa un po' complessa, però l'elemosina alla singola persona, è la cosa più egoistica che uno possa fare. Ok. Perché non cambia fondamentalmente nulla, né per la società, né per quella persona, a meno che tu non gli dai, che ne so, 10.000 euro, ma è una roba che in quel momento, in quell'esatto momento, ti pulisce solo la coscienza e dici, cazzo, oggi ho fatto un gesto, cioè serve solo a te, non serve a quella persona. Ma tutto quello che noi facciamo serve anche a noi, non serve solo ad altre persone. No, infatti io, qualcuno lo può anche ammettere, però lo deve ammettere, non è dici oggi. No, certo. È diversa la cosa. Però vabbè, è un discorso, ad esempio, io do una delle ONG, associazioni, cioè sono vicino a queste robe qui. Ma tu dai dei soldi dell'ONG? Assolutamente. Altro indizio. Altro indizio. Ci avviciniamo, mano a mano. Perché io il mondo, cioè io... Ci avviciniamo verso i verdi, no, forse i verdi no, perché i verdi. No, no, ma sai perché? Perché a me piace l'idea di cambiare l'ambiente attorno a me, di modificarlo, plasmarlo. Cioè tu pensi di, con questi gesti, di poter plasmare l'ambiente intorno a te, di poter cambiare il mondo? Io faccio un sacco di gesti che secondo me cambiano il mondo. Vabbè, ma ognuno può credere pure agli altri. No, vabbè, ma non ti ho detto che credo negli angeli. Però hai detto che gesti che possono cambiare il mondo, pensi di cambiare il mondo, va benissimo. Perché io penso che non... Io penso che l'egoismo sia un grande elemento che invece può trascinare il mondo. È esattamente il contrario. Penso che l'egoismo sia una delle forze propulsive del mondo. Sì, anch'io. Se non ci fosse l'egoismo, credo che il mondo sarebbe un deserto assoluto. Anch'io. Senza innovazioni, senza nulla. Sì, anch'io. Però l'egoismo ti può portare anche a delle cose altruistiche. Vabbè, ma sì, quando sei obbligato, sei multimilionario, allora sì, fai... Ma no, ma perché? Diventi anche un filantropo, perché poi a un certo punto il cervello dice che cazzo ci faccio coi soldi. Cerchiamo di fare del bene e poi magari effettivamente ne fai. Ti dico una stronzata. Ma lascialo, tu non sei multimilionario, perché devi dare dei soldi? Lascialo fare a Bill Gates, altre cose. Adesso sei diventato un po'... No, sei diventato abbiente, no? Con questa roba qui. Cioè sei diventato uno che guadagna bene, no? Penso, no? Guadagni bene. Guadagni bene. Non sei però ricco, non sei ricco. No, non sono ricco. Ma che cosa vuoi fare? Hai Bill Gates, hai Berlusconi. Perché è sempre una scaricata di responsabilità. Ma perché è una persona di coscienza. Cioè quello, ti vuoi pulire la coscienza. Ma da cosa? Tu guadagnerai 300-400 mila euro l'anno? Guadagnerai, non hai manco il coraggio di dirlo, guadagnerai 300-400 mila euro l'anno? Manco. Se non guadagni 300-400 mila l'anno con sta cosa, fatta, ritirate. Scherzo, dai. Però guadagnerai dei quattrini. Ah che? Cazzo, ma mettili da parte, cioè che cazzo fai in beneficenza? Che sei matta, alle ONG poi. Quale ONG? Spero che scegli bene. Ma cioè, no, io collaboro proprio, cioè facciamo delle cose con delle ONG. Solo per pulirsi la coscienza. Ma perché? Ma perché sì, solo per pulirsi. Non serve, lasciano fare ai grandi filantropi, alla gente che ha i soldi veri, che non sa che cazzo farci. Elon Musk, oggi era in Italia. Ma come, se lo lasci fare ai grandi gruppi. Sì, poi sono i grandi gruppi che decidono come quei soldi vengono investiti. A proposito, la menù che ha incontrato Elon Musk, non so se sapete che Elon Musk ha fatto una figlia con l'utero in affitto. Non credo che lo sapesse. Ma questi lo vogliono rendere reato universale, l'utero in affitto, ti rendi conto? Quella l'ha abbracciato, cazzo, lo vorresti arrestare? Elon Musk? Tipo, quanti figli ha fatto Elon Musk? Eh, tipo cinque. Due, credo, con la progazione assistita, senza utero in affitto. Credo una, ex a, corregite voi che siete tutti i professori. Una l'ha fatto con la GPA, che sarebbe, chiamalo normale, utero in affitto, compravendita di bambini. Io voglio dire, compravendita di bambini. Mercato di bambini. Mercificazione di fetti. Ora, mi ha fatto incazzare una volta, ero a Bari, feci una cosa sulla prostituzione, c'era l'avvocato di Vendola, tra questi qua, no? Eh, persona rispettabilissima, che io, da un punto di vista umano, mi piace molto. No, a me Vendola piace, è stato anche, dicono, un grandissimo presidente della Puglia, no? Eh, persona molto, molto permalosa. Eh, una volta, eh, gli ho detto pubblicamente, poi mi sono confrontato lì con l'avvocato, con l'avvocato di Vendola, ma perché Vendola ha fatto una cosa che era contraria a tutta la sua vita, a quello che ha sempre pensato della vita. Cioè, la cosa più capitalistica che si possa fare, e più liberista che si possa fare, è l'utero in affitto. Cazzo, cioè, tu compri un bambino, lo compri, c'è una cosa più capitalistica di quella, e lui, comunista, ha fatto la cosa più capitalistica. Dunque, c'è una contraddizione un po' pazzesca, ma va bene, perché l'ha pagato, cioè, è confermato. Allora, una volta, feci una litigata con questo avvocato, diceva, no, ma non l'ha pagato, non l'ha pagato, ritira questa cosa. Io ho fatto, guarda, l'ha pagato. In qualsiasi modo sia avvenuta questa transazione, questo scambio, bambino in cambio di qualcosa, c'è stato sicuramente un baratto, c'è stata anche un'agenzia, questo c'è stato sicuramente, Vendola e il suo compagno, legittimamente, io sono tifoso di quello che hanno fatto. Quel bambino là ha tutto il diritto di avere, Eddie, come si chiama, non sai neanche come si chiama il marito di Vendola. Non sai manco come si chiama il marito di Vendola. Ma che cazzo, ma fai le trasmissioni ogni giorno, si chiama Eddie, credo, è un canadese, ne so io più di te che dovessi essere informato su queste cose qua. Io non lo so, ha fatto un, ha fatto, protestano perché giustamente se viene in Italia non lo riconoscono come padre del bambino. E per me invece va riconosciuta questa cosa qua, sempre se la legge lo consente, perché poi c'è il trucco che dice vogliono registrare i figli, però poi siamo contro l'utero in affitto. E no, se tu vuoi registrare i figli devi essere a favore dell'utero in affitto, non puoi essere paraculo. E comunque, al di là di questa minuzia, Vendola ha fatto una cosa capitalistica, cioè si è comprato un bambino. Ma è confermato che quindi l'abbia pagato? Recentemente ha fatto un'intervista al Corre della Sera, quando c'è la discussione recente su l'utero in affitto, in cui ha detto una cosa molto chiara. Che è successo? Come è successo? Eh no, non l'abbiamo pagato. Abbiamo pagato, pensa che è paraculata, abbiamo pagato lei, la gestatrice, la gestante del bambino, come si dice, gestatrice, gestante, non lo so, del bambino, quella che poi ha messo, cioè quella che ha poi sfornato, come si dice, no? Sfornato, brutto. Non è esattamente medico, diciamo sfornato. Sfornato, bellissimo. Ha tirato fuori il bambino dalle fauci e dice abbiamo pagato un anno in cui non ha lavorato. Beh dunque è pagato, questa qua in America avrà fatto un lavoro, dunque 100.000 dollari gliel'avrei dati, non so che faceva questa qua. E dunque un anno di non lavoro. In più l'agenzia, l'agenzia pagata, in più le cure mediche durante quest'anno, cioè avranno sborsato mezzo milione di dollari per questa roba qua. Dunque come si fa a dire che non ho pagato? Giustamente l'intervistato ha detto scusi però è come se avesse pagato. E no, lei l'ha fatto perché ci ha incontrato e gli siamo stati simpatici. Vabbè, magari sei così una stronzata, ma... Più o meno era così. Respondimi sinceramente su questo. Siamo entrati in empatia. Non riesci. Ma io sono tifoso di vendolo e di quello che ha fatto, al contrario di molta gente a sinistra che invece non sopporta l'udere in affitto. Io sono a favore della compravendita, vorrei che si chiamasse così, compravendita dei bambini. È così, sono più progressista di te. Io sono per il progresso, perché la gente abbia figli. Noi conservatori. Perché la gente abbia figli, perché la gente vuole avere un figlio, facciamoglielo fare anche così. È un vantaggio per tutti. Una donna che prende dei soldi, cioè un'Ucraina, come succedeva prima, che prendeva 50.000 o 70.000 euro per mettere al mondo un figlio di altri e poi se ne dimentica, cambia la sua vita. Una ha nel Bangladesh con 70.000, mettiamo forse 70.000. Ma cazzo, ma è una che gli cambia la vita completamente? Qual è il problema? Se siamo a favore, è una forma... Tu sei a favore della prostituzione. Sì. E' uguale. Lì è un affitto dell'utero per 10 minuti. Lì è un utero... No, no, aspetta, no, Giuseppe, per favore. Non diciamo minchiate. Nei fatti è così. No, dai. Allora, se rispondimi sinceramente su questo... Cioè, è troppo estrema questa cosa. Rispondimi sinceramente. Cazzo, tu affitti l'utero per 10 minuti, come di solito la media degli italiani, del mondo, 10 minuti di trombata con la prostituta. E 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Affitto temporaneo, super temporaneo. Affitto brevissimo. E l'altro è un affitto per 9 mesi. Ma, a parte che ovviamente ci sono delle implicazioni gigantesche... Se una è a favore della prostituzione, della legalizzazione della prostituzione, o della prostituzione, deve essere a favore anche... No, non è la... Sì, le implicazioni sono il figlio che nasce. Ma il figlio è di chi lo alleva, non di chi lo fa? No, quello assolutamente sì. Quello assolutamente sì. Il legame di sangue è da un'ora che sto cercando di chiederti. Rispondimi sinceramente. Ma il fatto che ci possano essere delle donne estremamente in difficoltà, che quindi sono obbligate a fare questa cosa, in paesi poveri... Cioè, frega niente. Nulla. Meglio, cambiano la loro vita. Ma se sono obbligate... Ma per forza, ma ci sarà gente sempre... Adesso faccio parenzo. Sempre gente obbligata nel mondo. Che pensi di risolvere il problema delle donne del Bangladesh, della povertà nel mondo? È normale che ci sarà sempre gente in povertà. Che pensi? Che il mondo possa essere da un giorno all'altro... Vabbè, ma allora facciamo anche la gente. Allora andiamo lì, ci prendiamo gli organi della gente, perché tanto la gente è in povertà. Quindi che discorso. No, gli organi è un'altra cosa, perché gli organi ti possono produrre dei danni, la questione degli organi. Mentre il parto è una roba super easy. No, non è super easy, però insomma, per fortuna, la maggior parte delle donne ne esce in denne. Non sempre, però c'è una margine di rischio anche lì. Però io, ovviamente, sono a favore di questa cosa in situazioni controllate, non in situazioni clandestine, in situazioni controllate, con cliniche. Anche lì lo scandalo, perché tu devi mettere, puoi scegliere il biondo, no? Sai, fanno questi servizi per screditare l'utero in affitto, dove dicono tu puoi scegliere tra quello biondo, gli occhi come li vuoi. Effettivamente succede da qualche parte. Poi la realtà è un modo per invogliare le persone, ma poi nella realtà non succede mai così. Cioè non è che poi se spunta fuori. C'è qualche clauso ogni tanto da correggere, effettivamente. Però diciamo che della problematica sociale non ti interessa. Anzi, al contrario, la problematica sociale... Va incentivata. Ma sì. Va incentivata, ma ha creato una possibilità di farlo. Ma poi non è che c'è tutta questa gente che ha voglia di farla, questa roba qui. Per cui anche là stiamo parlando di minoranze. Non è che c'è tutta questa gente che vuole pagare per avere un figlio. No, no, nel senso che, ad esempio, essendo io meno progressista di te, io sono per la GPA, però ho dei dubbi su questa cosa qua, sul fatto che possa essere sfruttata. Però a gratis la vorresti tu, la vorresti con la gestante che dice quanto mi stai simpatico, Mata. È che ovviamente non è nelle cose, no? Mettimi incinta. Non è nelle cose. E poi vi do a te, a tua moglie, do a te, a tua moglie un bambino perché mi state simpatico. È una cosa ridicola, dai. È un po' non nelle cose, però se creiamo un turismo verso la Tailandia... Meglio i soldi, meglio la chiarezza del denaro, meglio lo scambio del denaro certificato in cui tu stai lì per denaro piuttosto che tutte queste vie di mezzo. Ma il punto è che, sai cosa, anche sulla prostituzione. Cioè se le cose le fai bene, io sono d'accordo con la prostituzione. Se una prostituzione vuole prostituire... Ma mi pare normale che noi abbiamo in Austria o in Slovenia o in Germania o in Svizzera una miriade di turismo sessuale italiano e in Italia non c'è niente. Varcato il confine italiano non c'è un cazzo. Ma è una cosa ridicola. È come le centrali nucleari. Le centrali nucleari sono tutte attorno all'Italia. Ma è un mix. Le puttane sono tutte attorno all'Italia. Ma perché le puttane? Ma è così, la realtà. Ma è un termine orrendo. Ma perché le puttane è un termine orrendo? Perché è offensivo. Ma è offensivo nei confronti delle puttane. Ma vai a dire alle puttane. Perché a parte che tu non sei puttana e dunque non puoi rispondere. Ma se gli dici alla maggior parte delle puttane se gli dici sei una puttana e ti dicono sì, è vero, sono una puttana. Ci fu un bel libro scritto qualche anno fa dalla Chirico. Dalla Chirico, da Annalisa Chirico Siamo tutti puttane. Ed effettivamente è un po' così. Siamo tutti un po' puttane. Ok. Nei confronti... Ci vendiamo. Io vendo la mia voce. Che la puttana vende la sua figa il suo di dietro o la sua bocca. Una prostituta vende quello che può vendere. E non c'è niente di strano. Regolamentato è sicuramente meglio della canela che c'è in Italia. E' effettivamente. Regolamentato è sempre... Quindi tu sei d'accordo con la regolamentazione, no? Sì, assolutamente. Bordelli in Italia, imprenditori italiani che investono. Sono perfettamente d'accordo. Lo so, però siamo in due. Meglio così che creare un turismo sessuale, ad esempio, verso il Vietnam e la Thailandia, cosa che accade, e lì succede di tutto. Vabbè, ma quello è chiaro che se succedono delle cose con i minori siamo i primi a pretendere leggi durissime, lì però è una caienna. E' perché la mancanza di regolamentazione qui crea quelle cose lì. E' sulla GPA potrebbe essere la stessa cosa. Ma no, adesso la gente andrebbe a buttare in Vietnam lo stesso anche se ci fossero i bordelli in Italia, un po' per così. Bisogna sempre trovare qualcosa di più estremo da fare, no? E' normale che sia così. Però io penso che questa cosa in Italia non si farà mai. Per ipocrisia assoluta. Non tanto per la Chiesa. Una volta era per la Chiesa, ma la Chiesa ormai non conta più un cazzo. Non conta più nulla, manco in Parlamento. E' un alibi la Chiesa. C'è oggi qualcuno che dice, siccome la Chiesa si oppone non la facciamo questa cosa. No, però ci sono tanti politici che hanno una cultura comunque molto fortemente cattolica. Sì, quello è vero, ma la Chiesa è in sé, non c'è la pressione del Vaticano. Non c'è più questa grande pressione. Il problema è che in Italia si preferisce non affrontare di petto questa battaglia e lasciare che la cosa avvenga con grande pigrizia nella totale... Nella totale... Degrado. No, nel totale degrado, perché poi non è che elimini la prostituzione per strada, diciamo, facendo i bordelli. Ma non si può concepire per l'Italia... Pensa in Parlamento quanto sarebbe bello una battaglia su queste cose concrete, con la sinistra, con le donne che dicono Ah, ma non possono esistere imprenditori dei bordelli. Io lo farei l'imprenditore di un bordello. Se dovessi fare un altro mestiere, invece della radio, farei l'imprenditore di un bordello. Sarebbe straordinario. Ok. C'è un mio amico italiano che gestisce due bordelli in Austria, il Welcome e il Andiamo, che si chiama Cristian, che è un trevigiano, anzi no, uno di... Sì, forse di Treviso, non mi ricordo se è di Treviso, no, di Udine, di Udine, perché poi sono tutti italiani. Dunque noi esportiamo cervelli in questo caso, perché questo non c'è... A voi, a voi. Questa è la vera esportazione dei cervelli. Che lavora in un bordello dove ci sono il 99% di clienti italiani. 99% di clienti italiani, però a tre chilometri dal confine italiano. Dimmi se questa qua non è un'ipocrisia. Cioè un'ipocrisia spaventosa. Cioè se fosse tre chilometri dentro cosa cambierebbe? Nulla. Cambierebbe il fatto che ci sarebbero proteste. Invece su queste cose bisogna fare una grande battaglia. La sinistra non la farà, perché la sinistra è diventata da questo punto di vista estremamente conservatrice. La farà la destra. Perché la destra purtroppo l'ha annunciata. Io una volta andai a firmare un referendum per l'abolizione della legge Merlina con Efe Ball e con Salvini. Insieme. Pensate che trio. Però erano altri tempi. Ocettivamente improbabili, infatti la proposta di legge non è stata manco presa in considerazione, perché è la proposta di legge popolare. Andammo al Comune di Milano, era il 2015, io, Efe Ball e Salvini a firmare il referendum per l'abolizione della legge Merlina. Non so mai ricordo se era il referendum, ma la proposta di legge per l'abolizione della legge Merlina. Perché ai tempi era una battaglia di Salvini, però ormai Salvini questa cosa l'ha persa. Adesso è una donna, i rosari. Una cosa terribile. Io glielo vorrei dire in faccia, non l'ho incontrato un po' di tempo. Ma come cazzo fai andare in giro con i rosari? Ma con tutto il rispetto per i rosari. No, no, attenzione. Non mi equivocate. Con tutto il rispetto per i rosari, perché ovviamente non è che voglio insultare chi è il rosario, tutt'altro, però Salvini che durante varie campagne elettorali espone il rosario come se fosse un qualcosa che politicamente vale, è stata una scena patetica, diciamo la verità. Una scena patetica, ridicola, che poi non corrisponde nemmeno alla sua vita, se vogliamo. Ma al di là di questo, che poi le contraddizioni ce l'hanno tutti, è bellissimo. Un uomo con le contraddizioni è meglio di un uomo verticale, sai? Un uomo con le contraddizioni, con mille contraddizioni esplicitate, chiare, non finte, lo preferisco a uno che si dice tutto ad un pezzo, perché l'uomo tutto ad un pezzo nasconde qualcosa di terribile dentro. E l'uomo che ha delle contraddizioni, che non nega, è una persona che mi sta oggettivamente... Per questo mi sta più simpatico Berlusconi di tanti altri che si proclamano, capito? Invece tutti d'un pezzo, capito? Beh, una cosa per le contraddizioni, una cosa cambia l'idea su tutto nel giro di cinque anni. Sì, quello è vero, Berlusconi è uno specialista di queste cose, però uno di quelli che dovrebbe fare una battaglia per la legalizzazione della prostituzione sarebbe stato Berlusconi. Cioè, purtroppo... E invece è esattamente il contrario. Cioè, mi stupisce un po' questa cosa che dice, ah, la sinistra sta roba non la fa, però... difendere la sinistra, che è per carità, però non mi sembra che il clima politico a destra, in cui si sta dicendo, no, però adesso togliamo anche l'aborto, togliamo tutto... Purtroppo, no, l'aborto, non dire cazzate, nessuno vuole togliere l'aborto. Eh, vabbè, dai, 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 dai. No, no, nessuno vuole togliere l'aborto, non c'è nessuna prostituzione, mi batterei come un leone per la... Non ho dubbi, però... No, ma contro anche qualsiasi tentativo di limitare la legge sull'aborto. Io sono a favore di tutto, pillole, contropillole, giorno dopo, giorno prima, giorno durante, fra dieci giorni, non so, qualsiasi artificio possibile, immaginabile, però no, la destra non vuole cancellare l'aborto, questa è una fake totale, che viene spesso propagandata da persone che invece fanno delle battaglie finte contro le fake news, ma la destra non vuole cambiare l'aborto, non vuole cambiare la legge sull'aborto, l'ha detto chiaramente la Meloni... No, ha detto che vuole cambiare la legge sull'aborto. Vuole dare dei soldi, anche se poi anche questa sarà una cazzata, che non verrà attuata alle persone, e ce ne sono, che magari decidono di... che non vogliono avere figli per problemi economici. Ma quello sarebbe positivo. Non è sbagliato, è difficile da realizzare, che poi non si capisce bene, uno può dire una cazzata, poi ripensarci, intanto incassi, non lo so come potrebbe funzionare. Sì, ma io dico, un governo che sta pensando di rendere universale un reato, perché lo trova così odioso, ed è comunque un reato che attiene a quel mondo... Lo trovo sbagliato, come sai, reato universale, l'utero in affitto, poi che vuol dire? Che dovessi arrestare le persone che vogliono fare l'utero in affitto, ne parlano, mi sembra una roba tipo la legge di Putin contro la propaganda gay, un'altra cosa assurda, capito? Però, che vuoi fare? Ogni tanto, non è che la destra... Io ogni tanto li voto, io ho votato tutti, ho votato Lega, ho votato Berlusconi tante volte, non ho mai votato la Meloni, devo dire la verità, però non mi vergognerei per niente a votarla, non mi vergognerei per niente, in maniera più assoluta, questa affistazione che le persone devono essere identificate con quello che votano... Mi hai chiesto chi hai votato, tipo 5 minuti fa... Ma quello era un gioco tra me, però attenzione, no... Hai sbagliato, cioè non è che ti ho chiesto perché ti identifico poi con questa roba qua, attenzione, nel senso, le persone io non identifico per chi votano, invece ci sono delle... Davide, per esempio, eh no, ma tu però votando in qualche modo ti identifichi nei valori, ma che cazzo te l'ha detto? Io votavo Berlusconi nel mio collegio a Roma, mi ricordo, nel 94, perché volevo vedere la faccia di Occhetto il giorno dopo che aveva perso, cioè la faccia dilaniata, disperata, della sinistra abbattuta da Berlusconi, non c'è niente che mi faceva godere di più della sinistra abbattuta da Berlusconi. Perché la chiave, secondo me, è sempre lì. Valleva 30 scopate, penso, le contavo, ho fatto quanto vale la vittoria di Berlusconi, va una trentina di chiavate può valere, tac, votavo Berlusconi senza paura. Cioè, la vedere il giorno dopo, la cosa delle... sai quei collegamenti in televisione che si fanno la notte elettorale, no? La cosa più bella è vedere le facce della sinistra abbattuta, devo dire, una goduria tremenda, quelli che si sentono i buoni, quelli destinati a governare, quelli più, no, quelli più in gamba, voi siete dei buzzurri, noi siamo bravi, ad amministrare battuti, sconfitti da quelli considerati beceri, populisti, mi fa godere tantissimo. Mi fa impazzire, è una di quelle cose per cui scambierei 20 amplessi, 20, l'avevo detto già, sono calato, ho detto... Sì, sì, hai già cambiato idea. Sì, sono stop. E magari è sempre per quanto... A quanto dura sta roba? Ah, sei stanco, eh? Secondo me è sempre per quel discorso... Il libro manco è stato accennato al libro, che schifo, ragazzi. Se volete, parliamo tra un attimo, secondo me è sempre il discorso della responsabilità, comunque, che tu non senti il peso del nulla. No, ma per chi mi do... Come se non vivessi in questo paese, alla fine. Ma no, ma che c'entra? La responsabilità è quella che uno ha di essere intellettualmente onesto, di essere più o meno un bravo cittadino, di non commettere reati, più o meno commettere reati, diciamo, di quelli... Nel senso che non è che chi commette un reato di per sé uno è una persona esecrabile, dipende che tipo di reati hai commesso, cioè... E poi vai, commesso reati. C'è una persona condannata che magari sono innocenti, cioè esiste, per sfortuna, purtroppo, questa cosa qua. Per cui, penso che la responsabilità sia una cosa che uno deve... No, non ce l'ho, verso il paese, non la sento la responsabilità verso il paese, verso le persone, non... Verso le persone che mi stanno accanto, sì. Anche se sono uno che ci ha messo un po' a capire che devo essere responsabile per le persone che mi stanno accanto. Cosa intendi? Intendo, ho sempre giocato un po' da solo, sono sempre stato molto individualista. E lo sono ancora, perché poi questo mestiere ci porta a essere anche un po'... Tu fai finta di fare l'ONG, le cose, le cose, le cose, le cose... Però sono una bestia, dici. Ma no, anche tu avrai la tua forma di individualismo, no? Esasperata. No, ma certo, ma tutti quanti siamo mossi dall'ego, dalle cose... Dipende da dove incanali questa energia. L'esibizionismo che noi rimproveriamo ai cosiddetti youtuber, ogni tanto capaci di grandi nefandezze, no? Come è noto. In realtà dovremmo auto-accusarci spesso. Per cui io non faccio parte della canea di quelli che sono così... Perché l'esibizionismo ce l'abbiamo dentro, ognuno di noi, chi più chi meno, no? Però non tutto è uguale a tutto, cioè dipende da quello che fai per l'esibizionismo. Certamente, non tutto è uguale a tutto, però poi la scala di valori spesso è solo la nostra. È quello per la televisione, la scala di valori è nostra. Al di là dei reati, no? Cioè incitare a un reato è un'altra cosa, no? Incitare a un reato o investire qualcuno per strada, eccetera, eccetera, è un'altra cosa, no? Però in generale poi noi diamo una scala di valori che non può essere quella degli altri. Cioè dobbiamo rispettare anche la libertà degli altri di essere cafoni, di essere eccessivi, quando questa roba qui ovviamente non va... Però da dove siamo partiti? Che mi sto perdendo in un discorso filosofico. Dove eravamo? Beh... Ma sei tu che conduci sta baracca? Magari anche io ho una bassa solietà attenzione. Ti sei abituato all'estemporaneità e ti sei abbandonato allo zanzarismo. Sì, sì, sì. A un discorso che si sovrappone all'altro, a ospiti che si mischiano. In realtà stavo pensando una cosa che hai detto prima sull'empatia. Sì. Che non ti appartiene, hai detto, cioè... No, ma non è... Cioè l'empatia... Ho letto un saggio una volta contro l'empatia, nel senso che l'empatia è considerata negativa. Però adesso, tranne ovviamente per le persone che ci stanno accanto, no? Però in generale l'empatia io poi la traducevo nel senso della... Di essere generosi con gli estranei, no? Di essere... Della generosità, della... Della... Del distribuire denaro agli altri. No, ok, va bene, anche distribuire... Beneficenza. Ma sai perché te lo chiedo? Perché guardando tante delle cose che tu hai fatto, preparando la mia intervista, ho visto una tua vecchia intervista che tu dici di detestare, che è un'intervista che hai fatta a Francesco Nuti, che peraltro è morto lunedì con... Nel senso, lunedì assieme a Berlusconi, ma no. Non è che detesto Nuti, detesto l'intervista, dici. Detesti l'intervista, certo. Ed è un'intervista alla regista, in cui lui è... Ovviamente ha avuto una vita difficile, perché ha avuto una lunga depressione, poi ha avuto un trauma cranico, e quindi questa cosa gli ha creato un sacco di problemi, in cui è palesemente alterato, cioè è confuso nell'intervista. Sì. E tu in quest'intervista vai molto... Sei molto diverso dal solito. Cioè sei molto... Ti metti spesso al suo livello, cerchi di chiudere l'intervista a un certo punto, quando ti rendi conto che lui non è lucido, oppure cerchi di aiutarlo parecchio. Cioè fai degli sforzi empatici che io ho molto apprezzato. Io prima ho visto l'intervista, e ho fatto, wow, che bello questo aspetto di Giuseppe. Poi ho visto la tua intervista in cui tu hai fatto, no, 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 ma quella intervista fa schifo, la rifacessi domani, andrei in fondo, gli farei tutte le domande possibili. No, 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 non ho detto così. No, no, la stai esagerando. L'avrei fatta diversa, ripensandoci come tutte le cose che faccio. Quello fu un momento abbastanza drammatico, perché io eredito quell'intervista da Sant'Almassi, che conduceva quella trasmissione di mattina, ma stiamo parlando di vent'anni fa, e mi trovo questo ospite, prepara il giorno prima la trasmissione, e Francesco Nuti doveva venire studio, ok? E doveva venire studio, poi in realtà ci avvertono verso, iniziava alle nove la trasmissione di mattina, era agosto, e ci avvertono poco prima che Nuti non sarebbe venuto perché ha avuto un problema a casa, però mi avvertono che è in una situazione di alterazione totale. Alterazione totale, soprattutto a livello di voce, adesso io non mi ricordo cosa poteva essere, adesso magari dico una stupidaggine, psicofarmaci o cose di questo tipo, medicina, non lo so. Comunque era una situazione in cui oggettivamente dalla voce sembrava alterato con psicofarmaci, alterato ma anche un po' ubriaco, ma non era credo ubriachezza d'alcol, ma comunque non lo so. Fatto sta che arriva questa voce, il primo impatto dice, come cazzo faccio adesso, appena sento quella voce. segue una conversazione di 25 minuti circa, 26 minuti, drammatica, in cui c'è lui che straparla con frasi mozzate, con frasi confuse, in cui io cerco di tenere, un po' pensando a lui, un po' pensando al fatto che dovevo uscirne, in qualche modo, cerco di tenere botte, perché poi non c'erano alternative. Cioè che facevo? Non è che potevo chiudere, non c'avevamo niente, intanto dietro i miei assistenti, all'epoca, e cercavano di costruirmi qualcosa di diverso, ma per costruirmi qualcosa di diverso, all'epoca in cui non c'erano i social, non c'era niente, bisognava inventarsi, un tema non era così semplice, no? E dunque cosa abbiamo fatto? No, non mi sto scaccolando, no, ma tanto va bene. Tolgo le cose, le brumitande, ogni tanto lo faccio, tiro fuori delle palline, tac, e le lanci. Dove lo fai? A tavola, a tavola, in qualsiasi momento. Momenti convivi. E niente, questa è una conversazione drammatica in cui io cerco di uscire e ne esco solo dopo 25 minuti. Effettivamente è vero quello che dici tu, però io non è che dico cazzo, ho fatto una grande operazione, no, cioè, successa, la cancello, quella roba lì, punto. Ma manco vado a vedere le visualizzazioni di quella roba lì, perché poi, oggettivamente mi dispiaceva molto per lui, ero molto più, probabilmente oggi avrei un altro tipo di approccio. Perché? Non lo so, oggi sono un po' più, un po' più cinico da questo punto di vista, non sto molto a guardare. Poi in realtà non è vero, adesso mi sono appassionato a questo personaggio che è il padre di quella ragazza che fa Holy Fans che ha 18 anni, Maria Federico. Sì, me ne parlavi prima in camerino. Me ne parlavo prima, che è una storia che mi impressiona molto, perché è una ragazza che fa contenuti hot a 18 anni, a 6 mesi, io ho una figlia, c'è quasi 18 anni, e un po' mi, anche me un po' colpisce, però dopo io l'ospitale, lei è molto brava, lei è veramente un fenomeno mediatico pazzesco, una persona che ha una capacità di linguaggio straordinaria, nettamente superiore a qualsiasi 18enne in circolazione, però fa dei contenuti su Holy Fans anche molto pesanti, dal punto di vista sessuale. E il fatto che io abbia, mi sia relazionato col padre in maniera molto stretta, parliamoci, mandiamo messaggi, lui mi spiega quanto ha pesato questa cosa, mi riporta indietro di tanti anni in cui facevo ogni tanto dei contenuti così. Ok. E ogni tanto ho messo, anche stasera, ho messo questo contenuto dentro un programma che non ha questo contenuto così drammatico, cioè sì, ha ogni tanto delle cose drammatiche, ma è il camionista contro Parenzo. Ok, ok. Per cui capisci che passare da un padre distrutto, distrutto, tra virgolette, che spiega perché la figlia, come ha affrontato, la figlia 18enne che fa contenuti su Holy Fans, porno, chiamiamoli così, adesso andrà da Rocco Siffredi a 18 anni e 6 mesi e passare dal camionista che insulta David, camionista fascista che insulta David, però è la zanzara, cioè, è fatto così ed è la bellezza, se vogliamo, per me straordinaria del programma che faccio, perché poi ognuno deve essere orgoglioso. E in questi anni che cosa che ti ha cinicizzato? sono un po' più pratico, ecco, sono un po' più sul pratico, questa cosa funziona, non funziona, non so nemmeno se questo padre funziona, però una cosa che ho sentito di fare, infatti qualcuno mi hanno detto è lento, adesso un po' sti cazzi, non bisogna essere... è lento lui a parlare. Sì, un po' lento a parlare, spiega, dunque devi stare un po' dietro, dunque dopo un po', magari il pubblico nostro può anche, no, non essere pienamente contento, però in questo caso mi interessava di più questa cosa scioccante di un padre, di un padre di fronte alla diciottenne che improvvisamente sceglie la strada di fare i contenuti, molto intelligente, potrebbe fare qualsiasi cosa, l'ingegnere, e invece si spoglia davanti a OnlyFans, che è una cosa ovviamente scioccante per tutti, anche se io poi dico di essere uno che lascia la libertà, però poi non so quello che potrebbe accadere se mia figlia scegliesse una strada di questo tipo. Eh, questo è un elemento interessante, perché poi tu parli pochissimo di questa cosa, anche io sono molto... pochissimo di mia figlia, perché non voglio metterla in mezzo, una volta l'ho fatto quando c'era lo sciopero al Manzoni, di quelli che occupavano contro la Meloni, mi sono incazzato, un po' si è incazzata pure lei, perché questi qua del collettivo del Manzoni, insomma, potevano prenderla di mira, ma non siamo più negli anni 70, per fortuna. Ah, ok. Per cui, insomma, poi lei si era un po' irrigidita, allora un po' smesso. Non usi neanche le storie da padre, diciamo? Tipo io sono molto protettivo dalla mia famiglia, però ogni tanto sono padre, qui questa cosa? No, non la uso molto, la cosa del padre, no, anche perché c'è poco da raccontare. Ok. Cioè non è che... No, non uso, non uso mia figlia, anche perché poi ogni ex moglie magari si incazzerebbe, non lo so come gestire. Ok. C'è una cosa di gestione anche per evitare rotture di coglioni. Chiarissimo. Ok. La cosa principale nella vita è evitare rotture di coglioni. Sempre. E i soldi... E i soldi... E' ipocrita che dice che i soldi, no, i soldi sono molto importanti. I soldi sono fondamentali, ovviamente per campare bene, per esaudire i propri desideri, ma soprattutto per dire di no agli stronzi. Certo. Cioè nel senso che dire di no alle persone che ti stanno sul cazzo o dire di no ad un lavoro o a una cosa che non ti piace, lo puoi fare solo se hai soldi. Per cui, perché io esalto il modello della vendita anche, ovviamente non è che esalto il modello, perché penso che non ci sia nulla di male a vendere il proprio corpo come noi vendiamo la nostra voce? Perché se una persona riesce ad affrancarsi dal bisogno, cazzo, ma questo qua è fondamentale. Una che, faccio un esempio, che con OnlyFans o con piattaforme o con la tradizionale prostituzione tipo escort, si affranca dal bisogno e è capace di dire no a tante cose che invece facendo altri mestieri non lo può fare. Cioè io credo che questa roba qui, l'affrancamento dal bisogno, in primis, soprattutto il fatto di poter dire di no a una cosa che non ti piace sia essenziale per qualsiasi essere umano. E dunque, se uno vuole vendere anche la propria coscia proprio di dietro o qualsiasi cosa, perché no? Ovviamente fatto con, senza essere costretto da un magnaccia, senza entrare in organizzazioni criminali, eccetera. O da un contesto, perché esiste anche quella roba lì. Essere anche costretto a fare quella roba lì, anche se non la puoi fare, perché... E quello però ho capito, ma possiamo evitare che ci sia il bisogno materiale. C'è una persona che... E sarebbe interessante. Un sacco di prostitute mi hanno raccontato di essere andata in crisi economica per mille motivi e di avere a malincuore per un periodo dato via la figa per denaro. Beh, non è bello. Ho capito, non sarà bello, ma è una realtà, cioè non è bello. Che discorso è? Ma capito, che vuol dire cambiare il mondo? Questa era l'idea vecchia comunista, Cambiare il mondo... Ma non è comunista a volerca migliorare la... Ma sì, ma quello è un... Tutti quanti... Cioè è un'aspirazione di chiunque, no? Però le persone... Esiste anche questo per migliorare la propria condizione economica, cioè dire... Prostituirsi. Ma sai che la prostituzione è fatta... Se vuoi. Cioè esiste la prostituzione intellettuale, esiste la prostituzione... Cioè chi è che vuole fare... Adesso dico, adesso non voglio fare esempi se no si incazzano con me. Cioè ci sono dei mestieri che oggettivamente nessuno vuole fare, diciamo la verità. Chiaro, certo. Cioè chi è che vuole pulire il culo alle persone? Adesso in generale non è una cosa bella che uno vuole fare. Poi ci sono quelle che lo fanno anche per missione o perché... Però non è una cosa bella che uno fa, no? No. Oggettivamente. Non è che dici che vuoi fare nella vita ci sarà una minoranza che vuol dire pulire il culo a chi ha problemi. E no, cioè non lo vuoi fare per missione. Non è che noi cresciamo e diciamo che vuoi fare nella vita pulire il culo? No, non lo vuoi fare. Eppure c'è un sacco di gente per fortuna che lo fanno. No, per fortuna. lo fa fare. E nello stesso modo c'è una che invece ha l'attitudine e il pensiero di fare la prostituta e lo fa. Cioè è punto. Cioè è una cosa che non possiamo eliminare. Certo il mondo sarebbe nostro, ordinario se non ci fossero questi bisogni o se non ci fossero le necessità ma dobbiamo fare i conti col fatto che ci sono c'erano, ci sono e ci saranno sempre. Certo con un'ottica di... Potrei fare politica. Migliorare la cosa. Dovresti? No, potrei fare politica. Potresti? No, non c'ho lo... Non c'ho lo... Non c'ho lo... lo spicheraggio pronto per fare politica o no? Secondo me sì. Secondo me sì. Me l'hanno offerto diverse volte ma... Te l'hanno offerto? Sì, diverse volte ma si guadagna di meno e... Si guadagna di meno ti sviscerano tutti i cazzi della tua vita quando entri in politica quello è sicuro al 100%. E se i conduttori radiofonici possono essere qualsiasi cosa avere amanti, contramanti avere... Trombare, non trombare possono fare quello che vogliono nessuno gli romperà mai i coglioni ma quando vai in politica no, cioè ti rompono il cazzo ogni piesso spinto. giusto o non giusto non lo so ma è così per cui no, grazie. Il trucco è entrare in politica ma rimanere un po' imboscato. Due volte no, grazie. Anche di fronte a situazioni in cui c'è... Chi ti ha offerto? Beh... Che me l'ho offerto? Secondo te prova a indovinare. A N? No. Più o meno vecchio di N? Una volta la Lega me l'ha offerto ma non era una volta la Lega però... Ma sì, ma non erano... Erano chiacchiere chiacchiere di po' dai. Se vuoi ci siamo... Era come sì, sono... Erano cose così però era impezzabile. E poi... Mi immagino... Mi piacerebbe fare... Sinistra Ecologia e Libertà. Vedi, vedi che sono... No, quello no. Non l'avrei mai detto. Ma no, ma no. Sinistra Ecologia e Libertà no. Arriviamo alla Marchetta. Momento Marchetta? Momento Marchetta. Chiudiamo col momento Marchetta che dovrebbe essere all'inizio. Vedrai che è il momento più divertente. Cioè, è il momento più divertente. Non è Marchetta perché si parla di cose serie. Altro che... Non di politica che poi... Io sono andato in libreria a comprare il tuo libro. Sì. La persona mi ha riconosciuto. Strano, ti riconosco? Sì, sì, sì. Sì? Sì, no, di continuo, certo. Ah, bene. Io gli ho chiesto il tuo libro e mi ha... Ma cos'era quello sguardo? No. Ma sarò stupito. Io non ti riconoscerei, per esempio. No? In giro, diciamo. No, non ti riconoscerei ma questo non è un... Non significa mica che sia uno stronzo. Cioè, non è che adesso bisogna tutto parametrare alla real... Cioè, adesso, quando uno ti riconosce per strada c'è una corrispondenza col denaro. Anche qui. Cioè, più ti riconoscono e più guadagni. Questo non c'è dubbio. Questo non è così, però. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente è così. Nel mondo dello spettacolo è così. Più ti fermano più significa che ci sei e più... Nello spettacolo, eh, sto dicendo. Nell'entertainment. Nello showbiz. Nello showbiz è così. Più sei fermato per strada e più, ovviamente, c'è un valore che ti viene riconosciuto. Non so se poi... È matematica la cosa, dai. Oggettivamente è così. Cioè, se non ti vedono... Sono persone più o meno brave a monetizzare questo... Sì, che monetizza anche a prescindere dal fatto di essere fermato. Però dicevi, scusate. Mi ha dato il tuo libro in cui sei tu... In copertina, sì. Nudo, in copertina. No, non sono nudo, sono... Non scherzo. C'ho il petto nudo. C'ho il petto nudo. È un po' la Jim Morrison. Ah, era un po' più ispirata la Jim Morrison? Cosa era ispirata? Mi sono messo così e molti hanno detto che è tipo Jim Morrison. Allora, l'ho visto nei Meme, in effetti ti ho messo paragonato. Ma non era per paragonarmi. Ma in una stanza con te Jim Morrison su dieci donne. Jim Morrison. Jim Morrison. Minchino a Jim Morrison. Dieci su dieci Jim Morrison. Ok. Ma sì, perché poi magari non so, dal punto di vista prestazionale, non lo so. Ah, va bene, mamma mia. Quello poi non lo possiamo sapere, ormai... Ormai non lo sapremmo. Non lo sapremmo mai. Non lo sapremmo. Però, sì, diciamo, come ha di primo acchito così, la prima scelta sarebbe Jim Morrison tutta la vita. Poi Jim Morrison era molto bello, insomma, da giovane, no? Ok. Cioè, era bellissimo. Cioè, non era brutto. Sicuramente era... Cioè, così, a giudicarlo così era meglio di me. Ok. Perché hai scritto questo libro? Questa è una domanda classica che si chiama Coppie. Si chiama Coppie. Si chiama Coppie. Ed è un libro scritto perché... Boh, non lo so, perché a un certo punto Elisabetta Sgarbi mi ha un po' pressato a farlo. non c'è un motivo anche io, non è anche la classica cosa come dice perché l'ho dovuto scrivere, perché sentivo. No. Ok. No, assolutamente no. E semplicemente ho detto facciamo un po', era andato bene quell'altro, insomma, bene, abbastanza bene quell'altro e facciamo uno spin-off, un po' una roba, però diversa, in cui ci metti un po' meno sesso, un po' più racconto psicologico, eccetera. io facciamo qualche cosa. Io ho detto dopo un po' l'ho richiamata e gli ho detto facciamo una cosa che si chiama Coppie. Io sono specializzato nei titoli e nelle copertine. Poi dentro... Tanto erano nudi. Dentro è un'altra cosa. L'altro era nudi, sì. Ok. Perché sono a favore dei titoli brevi, dei titoli brevi e delle copertine, cioè che poi sono un 80% ormai di quello che... di un libro, che spesso si può utilizzare... Uno non è che legge solo la copertina, è proprio un incubo. No, però spesso si può utilizzare anche come soprammobile, come elemento di scena, Per cui deve essere bella quella roba lì, deve essere... No, per cui il fatto che ci sei tu in copertina anche in una... Non dico posa, perché sì, quella era una foto in posa, conta, no? Per cui mi piace a me quelle copertine, mi piace anche quella col culo, sia quella col culo che quella con la faccia. Sì, perché in nudi non so chi non lo sa. È il tuo culo la foto? Sì, c'è il mio culo. È il tuo culo, sì. Vero, non ritoccato. Anche qui non c'è nessun ritocco, è la faccia vera. Sei Kim Kardashian. No, ti spiego, uno mette il culo può anche fare dei ritocchi, no? È facile fare dei ritocchi. Però sì, insomma, c'è... Per cui decido di fare sto libro e facciamo dieci storie di coppie ed è un libro contro la monogamia che io considero contro natura. Vabbè che voi tutti considerate contro natura. Considerate contro natura. Sì, non lo dicono, ma lo considerano. Una persona lì che è inquadrata subito. Ma non è che lo dico io, lo dicono i fatti. Non è che lo dico io. Anche io penso che la monogamia sia contro natura. Vedi che abbiamo dei punti di contatto. Però? Però c'è il rispetto, tu dici. No. Molti mi dicono così, però bisogna avere rispetto per la persona con cui stai. Ok, nel senso. No, però si confonde il rispetto con il sesso, si associa questa cosa al sesso. Cioè noi siamo capaci di perdonare al nostro partner qualsiasi cosa, le peggiori nefandezze, che ne so, che uno è un mezzo criminale, che uno è un... che fa qualsiasi cosa, più o meno adesso, per esagerare, ma non gli perdoneremmo mai, non gli perdoniamo mai il fatto che si scopri un'altra o un altro. Cioè tendiamo a non perdonarglielo. Certo. E questo è quello che è la cultura di cui ci hanno riempito negli ultimi 50 anni. Cioè, è frutto di questa roba. Ma lo dico perché riguarda anche me, perché riguarda anche me, non è che riguarda solamente gli altri. Cioè noi abbiamo il cervello, ci hanno imbevuto il cervello dal fatto che colleghiamo, mettiamo insieme l'amore e il sesso. Ci hanno chi? Ci hanno la cultura sicuramente cattolica, le religioni in generale, ma anche lo Stato Borghese, come si è costruito nel corso degli anni, hanno imposto questa cultura monogamica che è terribile, che è devastante, che ci fa sentire in colpa. Quanti di voi, quanti di noi ci sono sentiti in colpa sempre quando tocchiamo un altro, quando siamo andati con un altro? Ci sentiamo in colpa terribilmente. Certo. Chi più, chi meno, chi lo fa con più leggerezza, alcune volte con leggerezza, ma ci sentiamo in colpa. E questo io lo trovo profondamente sbagliato perché sentirsi in colpa è qualcosa di terribile. Invece, secondo alcuni, invece, c'è la risposta corretta al fatto che stai con qualcuno. Però poi, alla fine, è sempre qualcosa di culturale che abbiamo perché noi leghiamo la nostra vita di coppia al fatto di fare sesso solamente con quella persona e che è una cosa incredibile se ci pensi. Non esiste legame nella storia, nella vita, più duraturo di questa roba qui che noi pensiamo che possa essere duraturo. Noi pensiamo che sia per sempre e noi pretendiamo quasi che sia per sempre che la nostra donna non ci trarisca neppure dopo dieci anni e che il nostro uomo non ci trarisca neppure dieci anni. Non esiste un contratto simile in nessuna forma se non quella tra uomo e donna ancora oggi nel 2023 con tutti, nonostante i divorzi, le separazioni, i telefonini, del cazzo che sono il male del mondo con tutto quello che si comportano, i messaggi, le cose, le scoperte. nonostante questo continuiamo a stare insieme a prometterci e giustamente a stare insieme a prometterci fedeltà direttamente o indirettamente con i contratti o senza contratti e poi cadiamo sempre nelle solite cose i tradimenti o il pensiero dei tradimenti che non ci sono solamente i tradimenti cioè il pensiero dei tradimenti che è uguale. Nella prefazione del libro tu dici una cosa interessante che mi sembra in contrasto con questa cosa qua cioè che benché questa sia la tua posizione sai anche che la società deve per forza basarsi sulla monogamia che sarebbe un caos questa è la la cosa che io ti avrei detto sarebbe stata la mia la mia obiezione sì allora sì è chiaro che la società poi per motivi anche di riconoscimento dei figli cioè si è basata a un certo punto su una monogamia religiosa sull'imposizione della monogamia e questo è stato necessario per tante cose nonostante poi comunque la gente facesse comunque il cazzo che volesse in ogni caso prostituzione eccetera però comunque sì dopodiché poi ti ripeto nei fatti la monogamia è qualcosa che non esiste non può esistere in natura io dico è fondamentale la coppia è fondamentale la famiglia è fondamentale l'unione tra le persone ma non è necessario che questa cosa diventi una religione ormai la monogamia è diventata una religione e ancora nonostante tutto nonostante tutte le libertà che abbiamo ancora viviamo nell'epoca della religione monogamica è così cioè nella religione monogamica tant'è che io dico che il Vaticano dovrebbe fare una medaglia alle escort cioè dovrebbe premiare le escort perché le escort sono il collante delle famiglie italiane sono l'ammortizzatore sociale delle famiglie italiane cioè senza le escort molti matrimoni si sarebbero sfasciati e il Vaticano dovrebbe promuovere una grandissima battaglia a favore della prostituzione invece al contrario dicono no la prostituzione non va bene perché la donna deve emanciparsi ma che si deve emancipare senza la prostituzione le famiglie si sfascerebbero è molto interessante che tu parli delle escort ma non degli escort insomma perché gli escort per una questione insomma per una questione che guarda ormonale diciamo ormonale beh sì insomma c'è una differenza tra uomo e donna non ci sono i violentatori uomini ma le violentetrici donne sono poche e nello stesso modo gli uomini vanno a escort le donne un po' meno vanno ma insomma in misura di gran lunga minore per una questione fisica perché esiste come dire la differenza tra uomo e donna non so se sei al corrente di questa cosa cioè nel senso che uomo e donna al contrario di quello che dicono sono abbastanza diversi uomo e donna esistono ancora uomini e donne poi certo ci sono tutte ah no cioè vabbè non incanaliamoci no ma io sono a favore di tutto però esiste l'uomo e la donna non è che non esistono più l'uomo e la donna io non sopporto di questa cosa che il genitore ha il genitore sto andando su un altro argomento è una cosa che trovo insopportabile ma proprio per definizione la trovo insopportabile perché non capisco cosa significa concretamente perché generalizzarla poi se uno si vuole far chiamare Flavio invece di Flavia lo faccia pure benissimo ma perché deve essere valido per tutto per tutti genitore A genitore B perché sono se siamo entrambi padri io voglio essere padre metterai Flavio e Giovanni punto e basta cioè vabbè che ne era minchia cancelli sulla cosa moglie e marito uomo o donna lo cancelli così ma mettere genitore A genitore B lo trovo terribile ma non per culturalmente lo trovo una cosa una cosa oscena proprio anche a livello di definizione come avvocatessa come queste stronzate della femminilizzazione dei nomi di dare i nomi è un'avvocatessa secondo me è molto importante a me piace altro indizio altro indizio che viva verso Sel verso Boldrini è una boldrinata terribile ma basta con questa cosa delle boldrini a parte che Boldrini non è più rilevante da molti anni infatti avrai notato che io salendo sul palco dico benvenute benvenuti perché mi piace il discorso non manco l'ho notato perché perché stavo la piano benvenute anche questa cosa è una forma quasi di razzismo nei confronti degli uomini perché bisogna mettere no ti prego ma io non capisco questa no ma assolutamente sì scusa ma perché adesso c'è questa cosa in voga per cui uno deve dire benvenute e benvenuti ma perché cazzo devo mettere prima le donne e poi gli uomini scusa no vabbè posso dire anche benvenuti e benvenute ma non è più semplice dire benvenuti a tutti ma che cazzo voi che cosa vorreste benvenuti a tutti no senza specificare no benvenute benvenuti va bene dai guarda ragazzi ma siete delle merda guarda i masaliani dai ma che roba è è una sezione è una sezione di sinistra ecologia e libertà ma no è la questa è una sezione di Roberto Speranza è il paese reale il paese reale è fatto dal 50% di donne ma che vuol dire ma se io dico benvenuti va bene anche benvenuti non benvenute quindi va bene anche solo benvenute ma perché devi rendere omaggio perché benvenute ma non sto rendendo omaggio allora vai benvenuti e benvenute perché non benvenuti a benvenute ma va bene anche benvenuti e benvenute no no come sai si dice prima al femminile lo si dice no no come sai ma chi l'ha deciso si lo dicono tutti al femminile infatti anche tu lo dici al femminile perché perché c'è questa forma menti sai so di dirlo prima è perché più benvenuti e benvenuti è più lungo benvenuti no è perché perché si deve omaggiare in qualche modo non so in quali campi questa cosa la pensi tu io non ho mangiato nessuno se no avrei detto benvenute benvenuti e mi dispiace per voi donne che siete no non è quello che no com'è che siamo finiti a parlare di sta roba? non lo so solo 11 o un quarto e niente quindi ti dice questo libro vabbè ok questo libro si è sostanzialmente sono 10 storie che raccontano di come la monogamia sia impossibile sia un traguardo quasi impossibile dunque le coppie nonostante il fatto che ci sono tradimenti più o meno confessati più o meno confessati poi si possono riunire nell'accettazione dell'altro perché la cosa principale è l'accettazione dell'altro so che è complicato qualche volta quando l'altro magari è molto diverso dal punto di vista sessuale rispetto al partner però l'accettazione delle perversioni dell'altro l'accettazione delle fissazioni sessuali dell'altro è una roba che secondo me se viene accettata si evitano casini, separazioni eccetera ok o comunque non sei convinto tu no sono convinto perché sei un convinto monogamico perché allora no vivi nell'infelicità questa è la no io sono una persona molto non lo vuoi dire ma vivi nell'infelicità la maggior parte delle persone sto dicendo il caso singolo 2 sto scherzando ok spesso le persone la maggior parte delle persone vivono nell'infelicità ok di infelicità che poi trasferiscono nella coppia spesso di stimoli repressi stimoli repressi di voglie non esaudite perché si ha timore paradossalmente il sesso per questo siamo ancora un po' sessofobici si ha paura di trasferire al partner di trasferire al partner le proprie solamente nell'ambito del sesso le proprie voglie anche quelle più perverse anche quelle più poi non per tutti è così ma sto parlando della stragrande maggioranza delle persone per esempio con cui parlo ma lo dicono anche le statistiche quelle che tu ami molto i famosi numeri cioè uno ha paura che è un paradosso di confessare le cose più ardite sessualmente o anche solo dei desideri anche il desiderio di un altro al proprio parte che in teoria è la persona più vicina a te che ti dovrebbe capire di più in realtà le coppie più giovani questa cosa la fanno molto di più non c'è molta più apertura sì le coppie più giovani però sono quelle che si controllano anche molto di più perché ormai con i telefonini sono molto bravi e dunque la cosa più terribile perché hai messo un like quello? ma quelle sono situazioni sono cose agghiacciate perché segui quello su Instagram? lo seguo perché che cazzo ne so ma quello magari lo fanno le persone molto giovani lo segui perché te lo vuoi scopare o perché dietro o perché ti piace capisci la follia ma quando sei 20 anni è anche normale che c'è la cura 50 però ti posso dire una cosa io ovviamente non faccio statistica perché è il mio caso singolo però io ho avuto un lungo periodo nel quale ero estremamente libertino moltissimo e non è un periodo della mia vita che io ricordo come felice vabbè quello però sono cazzi tuoi nel senso mi diceva tu sei monogamo no ma nel senso che benissimo cioè libertinaggio libertinaggio e poi dipende che tipo di libertinaggio insomma no tu mi dai poco mi dai poco credito su questa cosa no 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 io sono non ti do credito assolutamente penso che non ti do poco credito penso che non lo ricordi come periodo felice perché è un periodo tormentato magari perché è un periodo tormentato molto instabile e poi è faticoso perché in realtà la monogamia è comoda cazzo il libertinismo è una fatica tremenda cioè bisogna reggere prestazioni avere a che fare con persone diverse e hai scovato male e perché non ti tira e perché così e perché giù e perché come però con me il libertinaggio è un mestiere è una roba faticosa è più faticoso essere traditore è molto più faticoso che essere monogami la monogamia degli eroi diciamo la monogamia fa venire la pancia allarga i ventri che cazzo ne so cioè ti fa venire no ti fa venire il culo più grosso ok e tutto questo la monogamia rende rende tutti ha la sua forma di felicità dunque è una situazione pacciosa una situazione di tranquillità cazzo il libertinaggio è dura ti mette alla prova wow è così ti mette alla prova sempre con le tue prestazioni con la tua testa con i paragoni che fai no se vai fai i paragoni invece andate sempre con la stessa confermi che comunque il libertinaggio anche per le donne cioè nel senso ci sta ma ragazzi ma sono sempre più io racconto delle storie in cui sono le donne che raccontano soprattutto e sono sempre più le donne secondo me a chiedere all'interno di una coppia libertà sessuale spesso sono le donne a chiederlo e a farlo libertà sessuale significa magari introdurre nella coppia una terza persona una quarta persona una quinta una coppia provare delle altre cose poi ci sono delle regole non bisogna mai farlo quando uno è in crisi cioè non bisogna mai allargare sessualmente la coppia quando uno è in crisi come tentativo di rimediare ad una situazione di crisi sessuale perché spesso invece le cose non riescono bisogna essere molto solidi per affrontare questo percorso che è un percorso che oggi viene bollato come perversione ed è uno dei pochi tabù che rimangono le coppie diciamo cosiddette scambiste che sono tantissime in Italia o anche solo quelli che pensano di esserlo sono tantissime sono bollate come coppie come coppie se ti guardano male i tuoi amici spesso rompono con te come cazzo ti piace la tua donna scopata da altri come no vai a confessare a qualcuno che una volta l'ho detto in un'intervista è stato terribile mia madre mi ha chiamato ma è vero che hai detto che ti piace vabbè mia madre ma che discorso è ti ho fatto studiare per dire per dire che che ti piace vedere tua moglie ma perché di nuovo è il contesto è il contesto poi era mia madre che adesso ha un problema mi chiamò e dice la mia amica mi ha detto che hai detto che tu avresti detto che ti piace per far vedere tua moglie scopata da qualcun altro ha fatto mamma sì ho detto così ha fatto ma io ti ho fatto studiare all'università ha detto scusami quindi capisci che ho avviato il contesto però io non conosco amici che mi abbandonerebbero se dicessi guarda che però non lo sai no ti abbandonerebbero adesso è successo da alcune donne alcune coppie che ho intervistato però che ti guardano non bene sicuro che ti guardano come un qualcosa di strano alla normalità che ancora non è totalmente accettato questo è sicuro al cento per cento comunque tu li guarderesti in maniera strana perché avresti sempre in testa questa cosa quando ti relazioni a quelle persone chissà che hanno fatto ieri sera no chissà se lei è stata scopata da un altro e come ma perché ma non è vera perché così ci sarebbe perché non li conosci perché non li conosci conosci la tua coppia di amici che ma io quando incontro li conosci perché non lo vogliono dire magari lo sei anche tu magari lo sei anche tu non me lo dici ma è normale che tu non lo dica perché c'è il tabù di questa roba no ma io non ne ho tabù io sono a posto però qualcuno che ti conosce li ha e non te lo dici ma se io adesso ti incontro con la tua compagna quella che è io non è la prima cosa che faccio e vi immagino io sì immagino sempre due continuamente ok io quando incontro due una coppia penso sempre a come possa essere l'incastro del sesso ok due persone come scopano come sì una donna come è fatta se c'è i peli se non c'è i peli cioè sai c'è la classica divisione pelo non pelo no la conosci la mia classica nel senso ok zanzara classic si potrebbe dire la zanzara classic di qualche tempo fa quando le prime volte che mi rompevano il cazzo lì in confindustria su queste cose qui ma non puoi parlare del pelo di figa perché ma tu come perché devo farti un'altra domanda ma sponimi al volo a questa perché tu hai questa libertà perché fai un sacco di ascolti sì perché all'inizio forse nessuno notava queste cose qui difficile notarle eh no non notava all'inizio c'è stato tutto un processo in cui abbastanza repentino in cui poi a un certo punto c'erano dei successi di ascolto e di altre cose per cui alla fine ci hanno fatto andare su una su un percorso di estrema libertà che effettivamente è è abbastanza noi ci sentiamo anche un po' a disagio ogni tanto quando andiamo a Trento al festival dell'economia no? sì no infatti l'immagine in mezzo ai premi Nobel eh sì in mezzo ai premi Nobel poi arrivano questi due che portano le Marchi no? Vanna Marchi e la figlia lì sì 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 ho visto ho visto cosa meravigliosa peccato che non si possa più dire niente criticata beh no ma non si possa più dire niente cosa criticata il giorno dopo quando ci sono state piccole polemiche purtroppo piccole di gente ma come mai la Marchi la Marchi Vanna Marchi personaggio straordinario ma su via vabbè Vanna Marchi Vanna Marchi un personaggio straordinario un personaggio meraviglioso ma se tu dovessi andare a cena con adesso dimmi la verità Vanna Marchi e la bindi con chi andresti a cena che discorso cioè Vanna Marchi te la butto lì tra Vanna Marchi e la Schlein ma non da un punto di vista relazionale così da un punto di vista di interesse io l'ho conosciuta però se dovessi scegliere se andare a cena Vanna Marchi e la Schlein con chi vai lascia perdere l'interesse per la politica che hai in generale ma tutta la vita Vanna Marchi e l'Ischlein vabbè vedi ma cosa Vanna Marchi ha venduto le creme sciogli pancia alla gente io ho questa cosa non ce la posso fare non ce la fai anche tu vendi devo salvare il mondo anche tu vendi chiacchiere quelle vendevano almeno qualcosa io non vendo chiacchiere ma tutti noi vendiamo chiacchiere certo che sì vendiamo chiacchiere qualche volta piacevoli qualche volta meno questa è stata piacevole è stata perché ce la dobbiamo andare a pezzo sì 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 mi fanno segnacci di tutti i tipi ah ti fanno segnacci tanto poi tagli che te frega ultima domanda vai cosa vuoi lasciare voglio lasciare sulla lapide l'ho già detto ma lo ripeto una scritta creò la trasmissione più pazza del mondo basta ok voglio essere ricordato come uno che ha creato una trasmissione pazza libera libera soprattutto perché la libertà non è una parola così a cazzo la libertà è una parola concreta che io riempio di libertà anche di dire cose anche estreme anche estreme e soprattutto la libertà di non avere dietro i paletti sono importanti perché non è che non sono importanti i paletti ci devono essere per aggirarli ma anche per sapere perché ti aiutano a cambiare cioè i paletti sono fondamentali quando a me hanno detto di fare meno sesso esplicito alla radio meno sesso descritto io ero contento ho passato un momento un po' di un po' di così drammatico adesso che cazzo faccio in quella però dopo ho capito che poteva essere un'occasione per affrontare le cose in maniera diversa un po' più psicologica per cui non voglio lasciare in realtà niente a me questa cosa che tu vuoi lasciare qualche cosa all'umanità io non voglio lasciare un cazzo io voglio non voglio voglio campare bene con i miei amici con le persone che conoscono con i miei cari con le persone a cui voglio bene e basta non me ne frega un cazzo cioè non voglio lasciare niente voglio fare quello che faccio bene impegnandomi al massimo ma non penso di avere una funzione sociale chi pensa di avere una funzione sociale come te è perché c'ha il cervello imbevuto da questo altruismo ma no ma da questa fissazione sì da questa fissazione dover contribuire a migliorare il paese che trovo francamente ridicola ok che trovo per noi francamente ridicola cioè io penso di migliorare il paese essendo più o meno un bravo cittadino per noi chi la trovi francamente ridicola per noi in che senso no no per noi per noi che facciamo comunicazione l'ambizione l'ambizione di cambiare il paese la trovo una cosa senza senso cioè uno se cambia il paese in meglio se fai il proprio lavoro più o meno onestamente con onestà intellettuale senza senza prendere per il culo troppo le persone senza prendere per il culo no ma senza prendere per il culo le persone senza come fa Anna Marchi diciamo vabbè ma fa Anna Marchi ha un altro percorso mica fa comunicazione ma Anna Marchi lo fa adesso Anna Marchi è stata ha pagato in carcere come pochi ha pagato quello che ha fatto a carcere adesso ha il diritto di essere di fare il cazzo che vuole senza essere per forza ricordato come quella che ha imbrogliato la gente cioè ha il diritto di parlare di stare ovunque assolutamente senza pregiudizi come quegli stronzi che volevano qualche stronzo che voleva che non venisse a Trento perché era Anna Marchi vaffanculo io la faccio no hai fatto benissimo invitarlo certo certo però un giudizio sulla persona un giudizio un giudizio su Anna Marchi è chiaro che ha fatto quello che ha fatto cioè poi che non voglia chiedere scusa chi se ne frega non è un obbligo chiedere scusa cioè no non è un obbligo poi tu se uno pensa ma d'altra parte ragazzi diciamo la verità cioè chi chi è andato da Anna Marchi adesso al di là al netto delle cose è meno colpevole di Anna Marchi che si rivolgeva a Anna Marchi voi siete sicuri? su voi siete sicuri io non sono così sicuro non so non hanno tutti lo stesso livello di attenzione lo stesso livello di oggi oggettivamente oggi chi va da un mago e si fa fottere i soldi è un coglione diciamoci la verità molto più del mago che però oggi oggi con questa roba qui chi va da un mago e si fa fottere i soldi e si fa fottere i soldi è più coglione più criminale del mago e va protetto va bene ma va protetto quello è scontato dopo c'è c'è l'intervento delle forze dell'ordine di quello dei magistrati che condannano il mago ok ma dopo di che ma non è che gli facciamo la statua al mago gli diciamo sei stato un grande ma chi dice la statua al mago nessuno fa la statua al mago però dobbiamo considerare che chi oggi va da un mago e si fa fare una legatura come cazzo si chiamano li ho presi per il culo a lungo le legature cosa sono le cose le legature sono le legature d'amore come cazzo si chiamano le legature d'amore sono quelle cose ogni tanto qualche mago ancora le fa dici voglio rimettermi con quelle quello fa la legatura d'amore una cosa terribile che oggettivamente una persona normale non farebbe per cui se paghi il mago per fare una cosa del genere sei più coglione del mago e questo c'è poco da fare cioè l'imbecillità in questo caso è comprovata non so che parleresti per ore molto più di quanto hai fatto con altre persone lo so però non è possibile dici perché migliorò ospite di sempre no ma perché alla fine si cambia argomento si passa un argomento all'altro divertente no ok mi sono divertito pure io che mi annoio in queste cose comunque a me Draghi sta simpatico volevo dire no ma Draghi non è antipatico io vado in Umbria nello stesso ristorante dove lui siamo vicini di casa quasi non è non è antipatico assolutamente sicuramente ha una sua simpatia adesso certo non ho sprizza di simpatia così a prima vista non è proprio un battutista però magari lo è nel privato non lo sappiamo però capito non è uno che si sporca le mani con la politica a me quelli che non si vogliono la politica è merda sangue merda disse una volta uno però chi era? lo sai? no mamma mia ragazzi non c'è un cazzo non c'è un niente tutto finto ma me ne devo andare non sai chi disse che la politica è sangue merda lo disse Pannella ma che Pannella Formica si chiama non lo sapete Rino Formica non lo so un ex socialista ma c'hai 40 anni cazzo ma non è vero ne ho 39 sono ancora giovane mi sono dovuto alzare sono un bel 39enne no dico cazzo sangue merda la politica se non ti vuoi sporcare con sangue merda la politica non è possibile che tu la faci infatti lui stava là non la voleva fare guardava tutti dall'alto va bene per carità però ma sicuramente è più bravo tecnicamente ma la politica non sarà mai così la politica è fatta di zosserie di promesse di gente che dice prometto prometto un mio amico dice sempre tra l'altro credo che sia qua e tu prometti prometti lo diceva per le donne rivolto alle donne però è uguale la politica è la stessa cosa è un promettere continuo è un promettere continuo sì ma è così è inutile è inutile che fai il precisino la politica è promesse spesso non mantenute sì per cui uno dovrebbe votare in teoria per quello che si avvicina pensi che possa avvicinarsi a realizzare qualcosa sì però io dico tu adesso all'ultimo hai votato Berlusconi che diceva mettiamo un milione di alberi diamo il coso alle casalinghe ma è una ma sono puttanate ma sono puttanate sono convinto anch'io sono puttanate però è bellissimo uno che dica ancora dica voglio mettere un milione di alberi è stupendo è una cosa talmente bella che lo voto più di quelli che fanno i seri ma è terribile voto quello per così perché cazzo perché Berlusconi ma sei come il meme del cane quello che beve con le fiamme l'hai mai visto il meme del cane che beve con le fiamme ma certo ma uno che ha 85 anni ancora combatte così io solo per quello lo voto col sangue non hai capito ancora cioè uno che ha 85 anni ancora sta sul pezzo così a inventarsi uno slogan perché ma perché gli altri non li fanno gli slogan no ma certo ma certo non li fanno gli slogan dimmi uno slogan tu non te ne ricordi ti ricordi questo vedi ma non ti ricordi uno slogan di Letta te ne ricordi uno di Letta non te lo ricordi uno slogan di Letta vabbè è stata una roba devastante non me ne ricordo uno a meno di quello ti ricordi che dicevo che voleva fare però il fatto che diventi tutto uno slogan secondo me c'è stato un momento in cui tu pensavi che il mondo si potesse cambiare quando ero nei radicali tanti anni fa ok certamente sì per piccole battaglie no il mondo no ma pensavo di poter comunque qualche cosa di ideale ho fatto nella vita e quindi poi questa cosa ho pensato sempre più ad altre cose altre cose beh una è abbastanza evidente e l'altra il calcio mi piace moltissimo poi l'ho sostituito diciamo la radio la radio è diventata la cosa primaria la cosa primaria poi poi Mario Giordano no no Mario Giordano è un'altra passione Mario Giordano non è una passione quella è la passione per i prodotti per i prodotti originali ok Giuseppe grazie è stato divertentissimo grazie a voi Giuseppe Fulciani grazie va così grazie viva Breaking Italy viva la libertà viva i podcast bene aspetta cosa dimenticare il telefono non ho mai rubato niente il trucco come è andata grazie 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 a tutti grazie a tutti e grazie a tutte e mi raccomando le donne che vengono in realtà di nuovo due mondi che collidono credo penso che sia evidente io sono un bagno di sudore a questo punto è stato faticosissimo ma divertentissimo spero lo sia stato anche per voi quindi vi ringrazio per essere venuti a ascoltare qualcuno che appunto è fuori dalla bolla almeno non lo so in realtà ho visto che molti di voi erano molto addentro a tutte le dinamiche di meme delle cose interne quindi magari non così tanto come mi sarei aspettato grazie per essere qui ringrazio gli sponsor Tridom e NordVPN che mi lasciano fare tutto quello che vogliono e quindi sostanzialmente mi sembra che sia stato evidente questa sera e ci vediamo per l'ultima ci vediamo per l'ultima di stagione quindi buonanotte mi raccomando non perdere siccome mi avete detto che poi faccio sempre tardi ho fatto tardi anche stavolta non è tutto falso quindi grazie e buonanotte dalla professora bene partito ciao a tutti ragazzi e ragazze e pubblico del Breaking Italy Night io sono Gabriele sono quello che in genere sta dietro la telecamera di tutti gli backstage che avete visto di tutte queste puntate oggi invece ho deciso di essere io ad accompagnarvi e farvi vedere come prepariamo questo podcast e come ci prepariamo per ogni singola puntata andiamo e buon divertimento ottimo come prima cosa partiamo dalla location come molti di voi sapranno siamo al teatro Carcano a Milano il teatro ospita circa mille persone e è veramente fantastico ma adesso andiamo a vedere un attimo cosa stanno facendo i vari ragazzi e come si stanno preparando ok partiamo dal reparto camere nel reparto camere abbiamo Nico e Paolo i due ragazzi che ad ogni puntata preparano e settano le varie camere che utilizziamo con le varie lenti e tutto quanto in più vanno a collegare dei videotrasmettitori wireless che permettono alla regia di vedere in tempo reale ciò che vedono le varie camere e quindi controllare che tutto vada bene nel mentre della registrazione del podcast per quanto riguarda invece il reparto luci abbiamo il nostro Giovanni che è colui che si occupa di settare di preparare la scenografia a ogni puntata questa scenografia è composta da diverse luci che vengono utilizzate sia per dare un po' di colore alla scenografia che dare qualche punto luce passiamo adesso alla regia entriamo un attimo nella nostra regia dove troviamo il nostro Alberto Sghezzi qual è il compito di Albi? in pratica da questa postazione Albi va a controllare tutto quanto quello che è i puntamenti e le varie camere adesso i ragazzi infatti stanno facendo i vari puntamenti ovvero Albi va a correggere tutti i vari punti camera in modo da essere pronti e operativi per quando inizierà la puntata bene ragazzi ci siamo quasi cosa manca adesso? adesso manca la parte audio fondamentale è arrivato Ale è arrivato l'ospite cosa succede? il nostro tecnico audio va a microfonare e si vanno a fare i vari test sia in sala che in registrazione questo perché durante la puntata non possono esserci scherzetti dal punto di vista dell'audio quindi ora finiamo con questa parte ci rilassiamo un attimino con la cena e poi si inizia con la puntata bene ragazzi la puntata è tutta fatta le cose sono andate super bene vediamo il nostro audio engineering che cosa dice è stata un 100-100 inizio fine cioè è stato dritto per dritto è andata veramente bene siamo tutti super contenti penso che anche Ale sia molto contento di com'è andata super contento super contento com'è andata ragazzi? Giovanni? tutto bene tutto bene siamo un po' stanchi ma la puntata è andata alla grande super bene ragazzi spero che vi sia piaciuto questo backstage ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao